il nostro cameraman Luca Leinardi alla parte tecnica Carmine Basciu un altro appuntamento sportivo questo pomeriggio per la decima giornata di ritorno del campionato di promozione Gironea che propone le seguenti partite Arbus Siliqua Carboni Atletico Narcao Ferrini Sublanu, Lanusei Sant'Elena Monastir Frassinetti Orrolese Masullese, Pula Tortolì Quarto 2000 Sant'Antioco in classifica al comando è Lanusei a quota 52 in segue il Tortolì a quota 50 Pula a quota 46 Siliqua 45, questa è per la parte più alta della classifica ancora Ferrini 39, Orrolese 37 Monastir 36 troviamo poi il Carboni all'ottavo posto in classifica con 34 punti Arbus 29, Frassinetti Atletico Narcao 26 nella parte più bassa della graduatoria troviamo Sublanu, Sant'Elena e Quarto 2000 a quota 25 Sant'Antioco 22 punti Masullese 5 classifica marcatori al comando Niedu del Tortolì con 25 reti in segue Piludu della Nusei a quota 16 e Argiolas del Pula a quota 15 per il Carbonia il bomber Simone Marini che ha realizzato in stagione 12 reti per la formazione dell'Atletico Narcao invece Poles che ha realizzato 9 reti Derby in salsa sul Citana questo pomeriggio allo stadio Zoboli di Carbonia con i minerari che affrontano l'Atletico Narcao deciso quest'oggi a portare a casa un risultato positivo per allontanarsi ulteriormente dai bassi fondi della classifica la formazione di Giaggio Medda viene da diversi risultati positivi e scende questo pomeriggio allo stadio del Carbonia motivatissimo per far bene da parte sua il Carbonia dopo aver collezionato una serie positiva di 8 risultati utili consecutivi è scivolato domenica scorsa sul campo della pericolante formazione del Sublanu rimediando una sconfitta amara ai Bianco Blu servono ancora 5-6 punti nelle restanti 6 partite per la matematica certezza di una salvezza anticipata per cui un pomeriggio calcistico importante per entrambe le formazioni in vista dell'obiettivo finale del campionato SG e tendaggi e divani e CSNC in Via Carbonia 27 a Mila Massargia produzioni di divani su misura tappezzeria, pergole, nautica e di tendaggi classici e moderni doppie tende, mantovane, drappeggi tende oscuranti, poltrone e sedie inoltre assordimento di complimenti perletti, reti, materassi trapunte e copriletti testate moderne e classiche alla SG e tendaggi troverete un vasto assordimento per esterni di tende da sole gazebi e tende tecniche esperienza, professionalità e assistenza al vostro servizio con preventivi gratuiti tecnologie e automazioni SAS Via Nazionale Carbonia costruzioni edili, civili e industriali per l'intera Sardegna impianti elettrici, di condizionamento idrici, impianti antincendio ristrutturazioni edili e industriali azienda certificata ISO 9001 titolata SOA categoria OG1, OG6, OG11 in attesa di OG2 e ristrutturazione oltre a OS28 e OS30 Lavori d'appalto in corso presso comuni, province e privati e rapporti commerciali con IGEA, ASL e Regione Sardegna esperienze significative maturate negli anni con aziende pubbliche e private quali Pittarello Corte del Sole per l'impiantistica Hotel Regina Margherita Multisala Cine World Iglesias Ostello della Gioventù Carbonia Campi calcetto in erba sintetica dell'Istituto IPIA di Carbonia oltre ai campi ceramica di Iglesias ristrutturazione interna ospedale Città di Quartu sistemi di pompaggio Diga Montebrano e Simbirizi ed esecuzione lavori presso il parcheggio sotterraneo del Palazzo di Giustizia di Cagliari tecnologia automazioni SAS via nazionale 09013 Carbonia telefono 0781 62 420 Amici sportivi ben ritrovati qui dallo stadio Carlo Zoboli di Carbonia per la partita della decima giornata di ritorno tra Carbonia e Atletico Narcao il derby delle Solcis che seguiamo naturalmente in diretta su Radio Star 102.7 MHz in FM stereo e naturalmente in streaming nel mondo su Telesardegna Network.com subito le formazioni ufficiali delle due squadre il Carbonia scende in campo con Bove di meglio massa Foddi, Mei, Corda Carta, Sanna, Cosa, Marini Bullegas a disposizione per il mister Maurizio Largi con il numero 12 Andrea Pesse con il numero 13 Riccardo Pisu con il numero 14 Mattia Giganti con il numero 15 Gabriele Sabio con il numero 16 Cristian Murru con il numero 17 Fabio Corona con il numero 18 Marco Steri dalla parte opposta la formazione dell'Atletico Narcao Schiera, Mennella, Garau, Piras Meloni, Porcu, Poles Pillola, Podda, Pinna, De Montis Marongiu a disposizione per mister Giacio Medda in panchina con il numero 12 Piroso con il 13 Pirodi con il numero 14 Karim Maymed con il numero 15 Pau con il numero 16 Federico Piras con il numero 17 Cucuru con il numero 18 Carta l'arbitro dell'incontro è il signor Marco Medda con gli assistenti Sulis e Pisano tutti della sezione Cagliaritana tutto pronto per questo inizio di partita con i saluti ufficiali delle due formazioni un derby tutto da seguire ovviamente la formazione dell'Atletico Narcao ha molte motivazioni per far bene quest'oggi diamo un'occhiata anche al programma completo della giornata che prevede le seguenti partite Arbus Siliqua Carboni-Atletico Narcao che commenteremo in diretta fra qualche istante Ferrini-Suvlanu Lanusei-Santelena Monastir-Frasinetti ancora Orrolese-Masullese Pura-Tortoli quarto 2000 Sant'Antioco in classifica al comando Lanusei a quota 52 punti Tortoli in segue a quota 50 Pula 46 Siliqua 45 Ferrini 39 Orrolese 37 questa è per la parte più alta della classifica ancora Monastir 36 poi troviamo il Carboni a ottavo posto in classifica per la formazione mineraria con 34 punti Arbus 29 Frassinetti-Atletico Narcao 26 Sublanu-Santelena quarto 2000 25 Sant'Antioco 22 chiude la Masullese con 5 punti in graduatoria una gara come ho detto prima tutta da seguire visto e considerato che insomma il Carbonia ha una buona posizione di classifica manca ormai veramente poco per la formazione mineraria per raggiungere la salvezza matematica l'Atletico Narcao necessità ovviamente ancora di risultati positivi per mettersi al sicuro naturalmente facciamo gli auguri anche alla formazione del Sant'Antioco l'altra formazione sul citana che sta sgomitando nelle parti più basse della classifica abbiamo azzerato il cronometro Carbonia che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione qui sulla cabina stampa dello stadio Zoboli di Carbonia tutto pronto con i Carbonia scesi in campo con un completo bianco e bordi blu mentre dalla parte opposta l'Atletico Narcao è sceso in campo con la maglia rossa pantaloncini calzettoni neri con i bordi bianchi tutto pronto con l'arbitro dell'incontro che sta facendo naturalmente controllare che sia tutto a posto sta azzerando il cronometro e proprio in questo momento mi pare sta per dare il via alla ostilità abbiamo azzerato anche noi il cronometro in questo momento il via della partita con il Narcao che tocca subito il primo pallone un Narcao che naturalmente viene da un buon momento un buon stato di forma per la formazione di Gia Gio Medda quest'oggi grandi motivazioni per la formazione dell'Atletico Narcao il Carbonia vedremo se avrà la capacità naturalmente di giocare la sua partita come sa adesso è subito la formazione ospite con Fabio Piras che cerca di portare il pallone in avanti nella trequarti campo del Carbonia l'intervento difensivo da parte dei giocatori minerari però commettono fallo il calcio di punizione assegnato proprio alla formazione di Narcao che sta per battere questo calcio di punizione sulla trequarti campo del Carbonia leggermente spostato sulla sinistra il pallone con il numero 5 Giancarlo Porcu pronto alla battuta tutta la formazione di Gia Gio Medda adesso nella metà campo mineraria tutto il Carbonia difesa chiaramente della propria porta calcio di punizione tutto da seguire quando sono trascorsi esattamente 60 secondi al nostro cronometro risultato fermo ovviamente sulla parità reti bianche 0 a 0 il calcio di punizione di Porcu tutto pronto barriera schierata parte il traversone in aria l'intervento difensivo di Angelo May che allontana di testa il pallone ma sempre sui piedi di Porcu che cerca chiaramente di impadronirsi nuovamente del pallone viene pressato però dal numero 8 del Carbonia Nicola Sanna il retro passaggio di Angelo May il Carbonia riparte dal suo portiere Bove allarga il gioco sulla corsia di destra dove c'era smarcato molto bene il giocatore del Carbonia Massimo Corda il rilancio di Corda viene poi deviato direttamente in fallo laterale si gioca adesso a ridosso della fascia mediana vicino alla panchina di mister Maurizio Largio la rimessa in gioco è proprio di Claudio Di Meglio colpo di testa ad opera del bomber del Carbonia Simone Marini viene commesso un fallo ai suoi danni c'è il fischio arbitrale per questo calcio di punizione in favore c'è stato un fallo di mano mi dicono insomma calcio di punizione in favore del Carbonia con Corda in possesso della sfera parte la sciabolata in avanti da parte del numero 6 del Carbonia l'intervento difensivo degli uomini di Giaggio Medda che cercano chiaramente di controllare questo pallone a limite dell'aria poi il tentativo di rilancio ad opera di Giancarlo Porco il pallone è stato ribattuto in fallo laterale da Bullegas quindi rimessa con le mani sulla corsia di sinistra a ridosso dell'area di rigore del Narcao rimessa da parte del giocatore del Narcao Fabio Piras ex giocatore del Carbonia militato per molte stagioni anche col Carbonia giocatore sempre molto molto esperto che sta dando il suo contributo chiaramente per centrare la salvezza alla formazione del Basso Sulcis riparte da destra a sinistra il Narcao in questo rilancio ad opera di De Montis fermato subito immediatamente il giocatore del Carbonia che con Davide Massa cercano di far ripartire la manovra offensiva per la formazione mineraria l'intervento difensivo spedito il pallone direttamente dalla parte dei distinti per la rimessa in gioco della formazione del Carbonia mi pare sia subito molto interessante la partita si gioca da una parte e dall'altro come abbiamo detto prima insomma il Narcao deve cercare assolutamente di venire in avanti deve cercare punti la formazione dell'attritico Narcao il Carbonia che può chiaramente ripartire anche di rimessa il rilancio palla campanile l'intervento da parte dei giocatori di Giagio Medda spediscono il pallone sulla tre quarti campo ancora però il Carbonia che cerca di insistere il pallone deviato in fallo laterale la rimessa per il Carbonia con Massa l'appoggio verso Bullegas lo scambio tra i due ancora Massa cerca l'incursione verso l'area avversaria poi difendono molto bene il pallone i giocatori dell'attritico Narcao palla stessa che si perde direttamente a bordo campo la rimessa in gioco e per la formazione del Narcao ben schierata in campo dal mister Giagio Medda che ho sentito prima dell'inizio della partita insomma stava cercando di forgiare al meglio i suoi giocatori proprio per caricarli in vista di questo derby importantissimo il rilancio del portiere si tratta dell'esperto Roberto Mennella prende a rincorsa il rilancio che è venuto in questo istante la palla che si impenna a Campanili all'altezza della fascia mediana del campo l'intervento di testa Nicola Sanna ha cercato di servire ancora Bullegas attenta il rilancio col sinistro Bullegas la palla aveva già varcato però la linea che delimita il rettangolo di gioco per cui ci sarà la rimessa proprio in favore della formazione dell'atletico Narcao si gioca a ridosso della fascia mediana del campo Montis che però è stato anticipato il Carbonia può ripartire con lo stesso Bullegas serve molto bene Simone Marini lo scatto di Marini penetra in aria Marini parte il traversone Carbonia tiro parata del portiere anzi salvataggio sulla linea c'è stato il salvataggio proprio sulla linea da parte del giocatore dell'atletico Narcao con il portiere ormai battuto azione da gol per la formazione mineraria con Marini che ha effettuato un traversone in piena area se non vado errato si trattava di carta che davanti alla porta si è abbattuto a colpo sicuro e sulla linea è intervenuto un difensore della formazione dell'atletico Narcao ha salvato la propria porta e poi l'intervento arbitrale c'è stato un fallo successivo fatto sta che il Carbonia ha costruito subito in contropiede lo avevo detto insomma Narcao che deve probabilmente mantenere più costantemente il possesso del pallone Carbonia che si fa minaccioso in contropiede è avvenuta in questo istante la prima azione gol per la formazione mineraria dopo 4 minuti e 30 secondi sempre risultato fermo sulla parità 0 a 0 con il laterale destro schierato a destra in questo frangente Di Meglio Claudio Di Meglio schierato col numero 2 rimette il pallone in gioco verso Momo Cosa ha cercato di servire al Simone Marini non si sono intesi i due il pallone è terminato direttamente in fallo laterale con l'atletico Narcao che deve rimettere il pallone in gioco sempre sull'out sinistro è Fabio Piras che rimette attende il piazzamento dei compagni rimette il pallone in gioco in questo istante verso Marongiu lo stop di Marongiu finisce a terra c'è un fallo ai suoi danni giustamente interviene il direttore dell'incontro il signor Medda della sezione cagliaritana per assegnare questo calcio di punizione in favore dell'atletico Narcao con Fabio Poles certamente giocatore molto molto esperto che ribatte il calcio di punizione in questo istante palla lunga che giunge a ridosso dell'area di rigore del Carboni all'intervento di Angelo May ad allontanare il pallone poi ancora a sua volta sono i giocatori dell'atletico Narcao che toccano il pallone stesso con Andrea Garau capitano della formazione del Narcao spedisce il pallone direttamente in fallo laterale si gioca adesso all'altezza della panchina di mister Giacio Medda che segue chiaramente con molta attenzione la partita in piedi così come il suo collega Maurizio Largio ancora il tentativo da parte dei giocatori minerari che ricordiamo dopo 4 minuti e 30 secondi hanno sfiorato veramente la marcatura con una bella incursione ad opera di Simone Marini traversone verso il centro sul quale si è veramente catapultato carta ha toccato il pallone indirizzandolo verso la porta è il salvataggio sulla linea dei giocatori dell'atletico Narcao che hanno rischiato non poco in quella circostanza adesso il Carbone deve rimettere il pallone in gioco con lo stesso Di Meglio sempre sulla corsia di destra e il giocatore con la maglia numero 2 rimette il pallone verso carta ancora il traversone Di Meglio dalla parte opposta è l'intervento difensivo a liberare la propria area di rigore ma sempre sui piedi ai giocatori del Carbone che avanzano da sinistra a destra con questo traversone verso Bullegas il passaggio però è errato ed è l'intervento del numero 2 Andrea Garau che spedisce il pallone in out ma forse l'ultimo tocco è proprio dei giocatori in maglia bianco-blu per cui la rimessa è per la formazione dell'atletico Narcao adesso si gioca dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione sull'out destro rimessa in gioco ad opera di Garau lo scambio con Porco ancora Garau cerca di spedire il pallone in avanti un batte-ribatte si gioca sulla trequarti campo dell'atletico Narcao ancora Poles appoggia col piattone destro però poi viene spintonato alle spalle per cui ancora una volta deve intervenire il direttore dell'incontro per assegnare questo calcio di punizione in favore della formazione del Narcao che avanza al piccolo trotto sempre con Garau il lancio di 30 metri indirizzando il pallone a De Montis l'anticipo ai suoi danni è di Angelo May che spedisce il pallone stesso al di là della linea bianca per cui sono ancora i giocatori dell'atletico Narcao che naturalmente devono rimettere il pallone in gioco si perde sempre un po' di tempo ogni qual volta ovviamente nell'immenso stadio di Carbonia la palla termina direttamente a bordo campo rimessa in gioco per la formazione dell'atletico Narcao la rimessa che è venuta in questo istante vede un controfallo l'arbitro evidentemente una rimessa non troppo corretta per cui viene assegnata adesso la rimessa con le mani proprio alla formazione mineraria sull'out sinistro si gioca sulla tre quarti campo del Carbonia che rimette il pallone in gioco con Davide Massa all'appoggio a Bullegas a sua volta sbaglia all'appoggio forse anche un po' di vento si sente ovviamente qui allo stadio di Carbonia un po' fastidioso la rimessa per i rossi di Narcao che possono avanzare l'appoggio è indirizzato a Davide Pinna il pallone nuovamente in fallo laterale fase dell'incontro certamente non troppo esaltanti il Carbonia deve rimettere il pallone in gioco poi subisce il fallo esattamente si trattava di Marco Foddi schierato quest'oggi con la maglia numero 4 dall'inizio della partita ed è il Carbonia che deve rimettere il pallone in gioco con un calcio di punizione vicino a circa 3-4 metri di distanza dalla fascia mediana del campo con Angelo May pronto alla battuta tutto il Carbonia adesso schierato nella metà campo avversaria con Angelo May che deve effettuare il lancio palla che giunge al ridosso dell'area rigore del Narcao l'intervento dei difensori centrali della formazione di Medda allontano il pallone il pallone adesso viene controllato esattamente dal numero 11 Marongiu che perde poi il controllo ancora finisce a terra Simone Marini si lotta su questo pallone non c'è l'intervento arbitrale e poi nello scontro successivo è stato Marco Fodi a spedire la palla al di là della linea bianca mi pare sia proprio la formazione dell'atletico Narcao che deve rimettere il pallone in gioco no anzi l'arbitro decide per una rimessa in favore del Carbonia con Simone Marini in possesso del pallone parte lo spiovente in aria ancora Marco Fodi lo stop con il petto allontanano il pallone i giocatori del Narcao e quindi a loro volta cercano di far ripartire la manovra offensiva attenzione lo scatto di Pinna Pinna al limite dell'aria ancora Pinna la parata la parata da parte di Daniele Bove con Pinna che naturalmente stava scattando in contropiede insidiosissimo l'intervento del portiere del Carbonia che è riuscito ad ostacolare proprio l'incursione dell'attaccante della formazione dell'atletico Narcao insidioso insomma da una parte e dall'altra è stato il Carbonia a rendersi pericoloso al quarto minuto con l'incursione Simone Marini la palla salvata sulla linea dopo il tocco probabilmente di carta e adesso in questo frangente è stato invece Pinna esattamente dopo 10 minuti e 30 secondi a rendersi veramente insidiosissimo con lo scatto in contropiede l'uscita sui suoi piedi di Bove che è riuscito a salvare il Carbonia dalla capitolazione partita certamente apertissima lo avevamo detto all'inizio di questo derby sul Citano con l'estremo difensore del Carbonia Bove che rinvia il pallone lunghissimo nella zona del campo dove può svettare Simone Marini ha cercato di mettere in movimento Momocosa anticipato però il giocatore della formazione mineraria da destra a sinistra sono ancora i giocatori del Narcao con Porco ha cercato di servire il numero 7 Pillola che però è stato anticipato Carbonia in un momento in possesso della sfera con Angelo May cerca il dribbling supera De Montis appoggia il pallone sulla corsia di sinistra verso il numero 3 Davide Massa che poi scivola è stato forse anche ostacolato fallosamente infatti così è l'arbitro assegna il calcio di punizione in favore del Carbonia punizione già battuta con Foddi in possesso della sfera ma l'arbitro ferma nuovamente il gioco pallone deve essere posizionato correttamente per la battuta di questo calcio di punizione esattamente con Sanna Nicola Sanna sul pallone pronto alla battuta attendiamo chiaramente che il giocatore del Carbonia batta questo calcio di punizione e l'appoggio verso Angelo May si gioca sempre sulla fascia mediana del campo dalla parte della Carbonia allarga il gioco Corda verso il numero 2 Di Meglio può avanzare ottima l'azione da parte di Di Meglio supera in velocità il suo diretto avversario tentativo di scambio con Momo Cosa poi scatto sulla destra ad opera di Maurizio Carta che poi non riesce però a controllare questo pallone quindi hanno gioco facile i giocatori della Narcao che cercano lo scatto sulla sinistra esattamente con il numero 8 Podda che in un primo momento ha perso il controllo della sfera ma poi riparte ancora a formazione di Gia Gio Med lo scatto del numero 11 Marongiu viene fermato dall'uscita dall'estremo difensore Daniele Bove molto attento che rimette il pallone in gioco Carbonia nuovamente da sinistra a destra con Nicola Sanna l'appoggio a massa partita comunque che è certamente molto interessante Carbonia che guadagna la rimessa laterale ci sono state un'occasione per parte insomma prima il Carbonia abbiamo detto abbiamo descritto l'azione Carbonia che si è reso veramente minaccioso con l'incursione di Simone Marini da sinistra ha effettuato un traversone basso sul quale Carta ha cercato la deviazione vincente e il Narcao si è salvato proprio sulla linea all'ultimo istante mentre dalla parte opposta intorno al decimo minuto è stata la formazione dell'Atletico Narcao con lo scatto perentorio di Davide Pinna si è presentato tutto solo davanti a Bove l'uscita del portiere ha determinato il salvataggio appunto dell'occasione gol per la formazione dell'Atletico Narcao veramente determinante l'uscita dell'estremo difensore Bove ancora Sanna che allarga il gioco dalla parte opposta il Carbonia deve controllare questo pallone lo deve mettere giù può ripartire ancora con Angelo May tentativo di sciabolata in avanti l'intervento del numero 3 Fabio Piras perentorio allontana il pallone direttamente in fallo laterale si gioca adesso sull'out sinistro rispetto alla posizione d'attacco della formazione mineraria la rimessa in gioco è di massa lo stop ancora da parte del numero 11 del Carbonia Bullegas avanza con questo lancio in profondità il tentativo di scatto di Momocosa e Innocuo la palla è troppo lunga è terminata direttamente a bordo campo nulla di fatto nel frattempo ci avviciniamo al 14esimo minuto del corso di questo primo tempo risultato sempre fermo a reti bianche 0-0 qui allo Zoboli di Carbonia con la rimessa in gioco da parte dell'estremo difensore Mennella attende il piazzamento dei compagni dall'area piccola esplode il destro Mennella palla che si impenna a campanile nella fascia mediale del campo ancora l'intervento da parte di De Montis ma sempre sui piedi i giocatori di Carbonia che cercano di far ripartire ancora Simone Marini sempre molto insidioso quando può scattare in velocità in contropiede ancora l'uscita ad opera di Mennella anticipa tutti e si appresta nuovamente al rinvio il rilancio di Mennella giunge nella zona del campo dove può cercare lo scatto di testa Podda intervenuto però ancora il suo compagno di squadra si trattava esattamente di Pinna ha guadagnato il pallone ha cercato di mettere in movimento ancora i suoi compagni di squadra ma il Carbonia ben posizionato in posizione difensiva con Bibo Carta che allontana il pallone con il destro direttamente oltre la fascia che delimita il rettangolo di gioco per cui ci sarà rimessa proprio ancora una volta in favore dell'Atletico Narcao che chiaramente si sta affacciando vivacemente verso la porta difesa da Daniele Bove in una partita che rimane certamente apertissima un derby è sempre un derby la rimessa in gioco da parte di Fabio Piras l'intervento di Momo Cosa spedisce il pallone nuovamente in out ma sempre Fabio Piras i giocatori con la maglia rossa cercano di rimettere il pallone velocemente in gioco serve il suo compagno di squadra Porco ancora lo scambio con Piras c'è ancora l'intervento arbitrale per assegnare sull'out sinistro un altro calcio di punizione in favore della Narcao battuta sorpresa avanza De Montis a limitellare sulla sinistra tentativo di traversori De Montis l'intervento risolutore del difensore del Carbonia ma forse la palla aveva già varcato la linea che delimita il rettangolo di gioco a fondo campo per cui la rimessa è proprio assegnata alla formazione mineraria del Carbone se ne sono andati al nostro cronometro amici sportivi di Radiostare Telesardegna Network punto com esattamente 16 minuti e 30 secondi nel corso di questo primo tempo risultato sempre fermo a reti bianche 0 a 0 in una partita comunque piacevolissima con l'estremo difensore del Carbonia pronto al rilancio rilancio che è venuto in questo istante con Bove che cerca di spedire il pallone indirizzandolo a Momo Cosa all'anticipo ai danni di Cosa esattamente di Piras che allontana il pallone dalla parte opposta ancora il Carbonia che cerca di menare le danze con questo lancio in profondità verso Momo Cosa che viene anticipato da Fabio Poles Carbonia che si impadruisce nuovamente del pallone esattamente con massa parte il lancio di massa la palla colpita malissimo è terminata direttamente a fondo campo nulla di fatto certamente come ho detto prima il vento di maestrale è abbastanza fastidioso in questo primo tempo spira alle spalle della formazione mineraria che attacca verso la curva sud dello stadio immenso stadio storico di Carbonia con la formazione dell'Atletico Narcao pronto a rinvio con Mennella prende la rincorsa a Mennella il rilancio che è avvenuto in questo istante palla ancora campanile sempre nella zona dove può svettare di testa Bullegas l'appoggio all'indietro a massa il Carbonia può impostare questa nuova azione offensiva con il lancio di massa è sbagliato serve direttamente Podda per il Narcao riparte la formazione di Meda in contropiede deve stare attento ovviamente la squadra del Carbonia a non commettere ingenuità difensive un po' come è accaduto nella partita di domenica scorsa persa sul rettangolo di gioco della formazione pericolante del Suvlanu una partita rocambolesca che ha visto il Carbonia per ben due volte in vantaggio e poi è uscito sconfitto nel finale di quella partita per 3 a 2 Carbonia che adesso è tutto arretrato ovviamente a difesa della propria porta Atletico Narcao nuovamente in posizione offensiva l'intervento difensivo dei giocatori minerari spazzano un po' il campo ma sempre sull'auto destro la rimessa per la formazione dell'Atletico Narcao che si sta portando ovviamente in avanti sta giocando una buona partita la formazione di Gia Giomedda chiaramente assettata di punti vuole cercare chiaramente di ottenere un risultato positivo anche quest'oggi qui allo Zoboli guadagna un calcio di punizione adesso però la formazione allenata da Maurizio Largiù con il pallone che viene posizionato adesso sul manto erboso qui dello stadio di Carbonia il tocco felpato col sinistro è di Nicola Sanna ha cercato di mettere in movimento Momo Cosa che è stato anticipato molto bene da Porcu ha girato il giocatore del Carbonia il nuovo tentativo di lancio in avanti indirizzato a Pinna che però a sua volta è anticipato il Carbonia nuovamente con l'out sinistro esattamente con Massa che ha cercato di spedire il pallone in avanti non è riuscito però nell'intento ancora sono i rossi di Narcao che cercano di venire avanti tentativo ancora di Massa di allontanare questo pallone forse c'era stato un tocco da parte del giocatore dell'atletico Narcao così infatti lo vede il collaboratore di sinistra del signor Marco Medda della sezione Caglieritana per cui la rimessa è assegnata proprio alla formazione del Carbonia sempre sull'out sinistro è lo stesso Massa che cerca di servire il compagno di squadra Momo Cosa ancora un nuovo batti ribatti si gioca sempre sulla fascia medica del campo Narcao che cerca di allargare il gioco sulla sinistra dove insegue il pallone Marongiu ancora Marongiu non trattiene questo pallone però all'interno del rettangolo di gioco per cui un'azione veramente confusa da una parte dall'altra errori nel controllo della sfera adesso il Carbonia guadagna un calcio di pulizione qui sotto la nostra postazione sulla tribuna stampa dello stadio Zoboli di Carbonia il calcio di pulizione sta per essere eseguito esattamente da Claudio Di Meglio la battuta di Di Meglio lunga ha cercato di servire Simone Marini che colpisce il pallone di testa e la palla poi si perde nuovamente a fondo campo dopo un inizio abbastanza interessante adesso veramente fasi di gioco inconsistenti errori da una parte e dall'altra certamente la partita non sta decollando come sembrava insomma c'è stata un'occasione prima per il Carbonia in apertura di partita con Maurizio Carta sul pallone servito da sinistra da Marini ha cercato il tocco vincente in tapin la palla c'è stato il salvataggio sulla linea di porta e poi il Narcao si è reso minaccioso con una incursione ad opera di Davide Pinna in velocità e l'uscita del portiere sui piedi dell'attaccante dell'atletico Narcao un'occasione per parte adesso il Carbonia nuovamente in possesso della sfera con Foddi che cerca chiaramente di uscire da una situazione un po' intricata ottima l'apertura col piattone destro serve di meglio e poi l'intervento del giocatore con la maglia numero 2 ha visto probabilmente un giocatore in campo un po' in difficoltà ha spedito volutamente il pallone direttamente in out qui sotto la nostra postazione ci sarà la rimessa in favore dell'atletico Narcao vediamo se restituisce il pallone stesso sui giocatori del Carbonia visto e considerato di meglio poteva assolutamente continuare la sua azione la rimessa laterale del giocatore con la maglia numero 11 Marongiu c'è chiaramente lo scambio di cortesie fra le due formazioni Carbonia è un momento in possesso della sfera con Massimo Corda l'apertura dalla parte opposta si gioca adesso sulla tre quarti campo del Carbonia verso Nicola Sanna avanza e supera la fascia mediana del campo verso Davide Massa che poi però sbaglia completamente il tocco e quindi si riprenderà probabilmente con una nuova rimessa dalla piccola dalla piccola area del portiere vediamo se il pallone stesso aveva già varcato comunque la fascia laterale sulla sinistra gioco fermo non si capisce cosa da dove si deve riprendere il gioco probabilmente un fallo laterale in favore dell'Atletico Narcao sulla corsia di destra è proprio la formazione di Gia Gio Medda che rimette il pallone in gioco con Garau il tocco del giocatore indirizzato verso il suo compagno di squadra Porcu il Carbonia che cerca di ripartire in velocità Simone Marini chiedeva probabilmente il fallo non lo ha ravveduto l'arbitro e quindi ancora un batti ribatti con l'Atletico Narcao che insegue questo pallone esattamente il numero 4 Meloni che però non lo controlla il Carbonia che cerca di velocizzare un po' questa azione offensiva e poi ancora il tocco all'indietro nulla di fatto sempre il risultato fermo sulla parità 0 a 0 qui allo stadio Zoboli di Carbonia con l'estremo difensore Roberto Mennella nuovamente pronto alla battuta lunga e Mennella sul pallone il rilancio del portiere avviene in questo istante palla che supera abbondantemente la fascia centrale del campo nella zona dove svetta di testa Bullegas ha anticipato il suo diretto avversario ma sempre Narcao che cerca di portarsi minaccioso in contropiede l'uscita del portiere sul retropassaggio di Angelo May ha anticipato ovviamente l'attaccante del Narcao l'estremo difensore del Carbonia Daniele Bove dalla parte opposta attenzione Simone Marini viene colto in posizione irregolare probabilmente uno scontro di gioco sulla tre quarti campo tra il numero tre dell'atletico Narcao Piras con Momo Cosa c'è stato uno scontro certamente fortuito aveva consentito comunque a Simone Marini di trovarsi il pallone tra i piedi non ci ha pensato due volte l'attaccante della formazione mineraria capocannoniere appunto del Carbonia con esattamente 12 reti realizzate in questo campionato ha scagliato un gran tiro ma il gioco era già fermo probabilmente una posizione irregolare da parte dell'attaccante del Carbonia per cui si riprenderà nuovamente mentre intanto fa Capolino un bel sole qui quest'oggi allo stadio Zoboli una giornata comunque che è abbastanza fredda il rilancio da parte del portiere Mennella giunge sulla tre quarti campo del Carbonia stacca di testa Sanna anticipa il suo avversario ed è Foddi che cerca di allargare il gioco verso Bullegas chiaramente la traiettoria del pallone viene allungata visibilmente anche dal maestrale per cui chiaramente irraggiungibile questo pallone da parte del giocatore con la maglia numero 11 del Carbonia Carbonia che come ho detto già anche in sede di presentazione della partita deve assolutamente guadagnare ancora 4-5 punti per una salvezza matematica mentre per l'Atletico Narcao chiaramente ci sono ancora diversi punti da conquistare sul rettangolo di gioco è la formazione del Narcao che perde il controllo della sfera allarga il gioco Angelo May sulla corsia di destra verso Di Meglio il Carbonia non è in possesso della sfera con Momo Cosa un po' difettoso del suo controllo riesce a servire direttamente del suo avversario si trattava di Attilio Marungio che ha cercato lo scatto sulla corsia di sinistra all'intervento di Di Meglio per spezzare l'azione offensiva del Narcao falloso però calcio di punizione adesso al di là della fascia mediana del campo si gioca sulla trequarti campo del Carbonia sull'out sinistro sul versante d'attacco della formazione del Basso Sulcis si perde del tempo per riprendere la partita con il numero 5 Giancarlo Porco sul pallone pronto alla battuta lunga probabilmente la formazione di Gia Gio Medda che posiziona accuratamente il pallone in questo istante si sta per ricaricare della battuta lunga tutto il Carbonia a ridosso della propria area di rigore adesso il tocco di Fabio Pires ha servito nuovamente Porco questo nuovo tentativo da parte dei giocatori dell'Atletico Narcao e c'è anche la munizione prima munizione della partita indirizzata a Di Meglio per questo fallo ai danni di Stefano De Montis esattamente quando sono trascorsi 24 minuti e 30 secondi al nostro cronometro risultato sempre fermo sulla parità 0 a 0 facciamo una breve sosta alla linea che va alla regia Fericam di Pisu Federico via Lubiana 190 Carbonia sempre al servizio dell'automobilista ricambi delle migliori marche quali Valeo Look Fiam SKF oltre a Bosch NGK e Veru alla Fericam troverete lubrificanti Total Fiat Elf e Castrol oltre alla linea Comline con un vasto assordimento di elementi filtranti di ottima qualità prezzo fate una sosta alla Fericam di Pisu Federico in Via Lubiana 190 a Carbonia gentilezza e professionalità a stretto contatto con l'automobilista con esperienza di oltre 35 anni nel settore per info telefonare allo 0781 64911 email fericam chiocciola hotmail .it 11 point di Stefano Cussotto e Luca Meletti in Via Dalmazia numero 34 a Carbonia i migliori marchi del mondo sportivo unico concessionario 11 per tutta la Sardegna oltre al prestigioso marchio Adidas per tutti gli sport specialista nel settore volley con i prodotti Asics Mizuno e Onze per il tennis grandi assottimenti con abbigliamento sportivo e racchette Wilson e Babolat oltre ad una vasta scelta per tutti gli amanti del running e dell'atletica leggera alla Onze Point potrete trovare offerte promozionali per tutto l'anno del 50% con forniture mirate anche per le società sportive assortimenti sportivi anche per taglie forti e calzature per tutti gli sport fino al numero 50 ricordate concessionari Onze Point di Stefano Cussotto e Luca Meletti in Via Dalmazia numero 34 a Carbonia telefono 0781 670057 email 1111point chiocciolotmail.it sito internet www.oncepoint.it nuovamente collegati qui dallo Zoboli di Carbonia per quanto riguarda telesardegnanetwork.com Radio Star il calcio di punizione è segnato in favore dell'atletico Narcao che adesso si sta portando minaccioso verso l'area di rigore del Carbonia tutta la formazione del Narcao adesso nella metà campo bianco blu barriera che sta per essere schierata dal portiere del Carbonia con due giocatori in barriera tutto pronto calcio di punizione con Giancarlo Porcu pronto alla battuta tutta la formazione mineraria a ridosso della propria area di rigore parte il lancio in piena aria l'uscita del portiere Bove che smanaccia il pallone poi l'uscita viene fermata comunque anche dal direttore dell'incontro ha visto un fallo sulla pressione proprio sul portiere del Carbonia che comunque aveva anticipato tutti c'è stato un fallo ad opera del numero 2 Andrea Garau capitano della formazione del Narcao che ha cercato lo stacco di testa ma ha commesso fallo proprio ai danni del portiere per cui il calcio di punizione è decretato dal signor Medda della sezione Cagliaritana in favore del Carbonia nel frattempo 26 minuti 30 secondi al nostro cronometro sempre il risultato fermo a reti bianche 0 a 0 un'occasione per parte insomma poi dopo un buon inizio la partita si è un po' affievolita un po' di errori da una parte e dall'altra probabilmente complice anche il forte vento di Maestrale che non agevola le giocate dei giocatori il rilancio che è venuto in questo istante con Mennella che lancia il pallone nella zona del campo dove cerca di svettare di testa Pinna ancora Pinna in possesso del pallone il retropassaggio verso il numero 5 Porco il fallo però ai danni del giocatore con la maglia rossa e bordi bianchi calcio di punizione in favore del Narcao che comunque sta giocando una buona partita si è presentato qui allo zobro di Carbonia voglioso ovviamente di ottenere un risultato positivo lo sta dimostrando sul rettangolo di gioco al cospetto di un Carbonia che chiaramente vuole fare sempre la sua bella figura qui allo zoboli nel suo stadio storico ancora la formazione del Narcao in possesso del pallone allarga il gioco sulla destra tentativo di controllo con lo scatto del numero 7 Pillola che poi ha un controllo veramente da dimenticare la palla si perda direttamente a fondo campo nulla di fatto sempre il risultato fermo sulla parità 0 a 0 amici sportivi di Radio Star e di Telesardegna Network punto com con il rilancio ad opera di Daniele Bove il tentativo di controllo di Bullegas il pallone che si perde direttamente in auto la rimessa al laterale è assegnata al Carbonia per l'ultimo tocco da parte dei giocatori in maglia rossa di Narcao ancora Bullegas buono il suo tocco indirizzato verso Momo Cosa l'anticipo ai suoi danni quindi da destra a sinistra e ancora Porcu con una piroetta si libera il suo diretto avversario viene commesso fallo ai suoi danni dice l'arbitro per cui calcio di punizione nuovamente decretato in favore dell'atletico Narcao che deve battere questo calcio di punizione all'interno della propria metà campo il tocco esattamente di Poles serve il suo compagno in squadra Porcu una sorta di regista arretrato il rilancio di Porcu nella metà campo del Carbonia nella zona dove può intervenire Angelo Main anticipo sul suo diretto avversario in questo caso si trattava di De Montis è sempre giocatore molto molto insidioso dotato tecnicamente la rimessa laterale del numero 7 Pillola sempre si gioca sulla tre quarti campo del Carbonia rimessa in gioco è avvenuta in questo istante con il controllo di Meloni ancora un altro intervento arbitrale una spinta alle spalle di Meloni per cui l'atletico Narcao veramente sta portando minaccioso adesso verso l'area di rigore del Carbonia con questo calcio di punizione sul vertice destro dell'area del Carbonia rispetto al versante d'attacco della formazione del Narcao si gioca sull'out destro per quanto riguarda la formazione dell'atletico Narcao con il numero 5 Porcu pronto alla battuta Narcao che chiaramente cerca di rendersi minaccioso verso la porta difesa da Daniele Bove tutto pronto per questo calcio di punizione tutta la formazione del basso Sulcis in posizione d'attacco tutto il Carbonia difesa dalla propria porta calcio di punizione pronto alla battuta il numero 5 Porcu prende la rincorsa parte il lancio in piena aria dalla parte opposta attenzione colpo di testa di Pinna l'intervento difensivo dei difensori centrali del Carbonia che cercano chiaramente di allontanare il pallone come possono con De Montis adesso in posizione arretrata è andato a raccogliere il pallone l'ha appoggiato all'indietro a Mennella che poi alza questo pallone ancora all'intervento questa volta in anticipo di Di Meglio serve molto bene Bibo Carta attende il piazzamento dei compagni parte il traversone in piena aria il Carbonia ha cercato chiaramente di ripartire subito immediatamente in contropiede la palla si è persa direttamente tra le braccia di Mennella che con tutta tranquillità abbranca il pallone attende il piazzamento dei compagni si appresta così al rinvio nel frattempo 30 minuti esatti amici sportivi radio star tele sardegna network punto com risultato sempre fermo 0 a 0 con l'atritico Narcao un momento in possesso del pallone l'intervento di Massimo Corda buono il suo anticipo col destro cerca di far viaggiare Simone Marini è in spaccata è buono l'intervento di Piras che spedisce il pallone direttamente in fallo laterale all'altezza della panchina di Gia Giometta la rimessa in gioco è di Bibo Carta l'appoggio verso Sanna che viene pressato alle spalle comunque si accorge dell'arrivo del suo diretto avversario lo appoggia il pallone all'indietro verso Angelo May che poi effettua questo lancio per vie orizzontali non è felice il controllo da parte di Massa ma certo non era facile controllare quel pallone per cui il pallone stesso si perde direttamente in fallo laterale un po' di confusione comunque quest'oggi sia da una parte sia dall'altra in un derby che finora veramente non ha decollato in pieno attendiamo chiaramente che le due formazioni si possano un po' allungare il tocco del numero 8 Podda buona la finta ancora l'appoggio al suo compagno di squadra Porco il Narcao che comunque conserva il controllo della spera il lancio di De Montis dalla parte opposta serve molto bene Pillola attende chiaramente l'ingresso in pieno aria parte il traversone a limite dell'aria tentativo di tiro un batti ribatti la palla che si ferma lì insomma Carboni che ha rischiato non poco in questa circostanza e cerca di ripartire da sinistra a destra con Simone Marini serve molto bene Momo Cosa ancora avanza Momo Cosa in velocità si libera il suo diretto avversario finisce a terra vediamo l'arbitro dell'incontro estrae il cartellino giallo estrae il cartellino giallo per ammonire Poles se ne stava andando via Momo Cosa era proprio all'altezza dell'area di rigore avversaria si è allungato il pallone e Poles chiaramente con l'intervento da Tergo lo ha messo giù calcio di punizione in favore del Carboni e ammonizione indirizzata proprio al giocatore con la maglia numero 6 dell'Atletico Narcao nove reti all'attivo in questa stagione calcio di punizione per il Carboni con Simone Marini da quella posizione sempre molto insidioso destro del versante d'attacco della formazione mineraria sul lato corto dell'area di rigore avversaria con il Carboni adesso tutto orientato in attacco ovviamente Narcao che sta facendo certamente la partita ma il Carboni ogni qualvolta si affaccia verso la porta difesa da Narcao si rende minaccioso calcio di punizione per i minerari con Simone Marini pronto alla battuta con la barriera predisposta a 3 barriera a 3 per l'Atletico Narcao vediamo si sta sgolando Mennella per dare qualche consiglio ai giocatori in barriera tutto pronto Simone Marini pronto alla battuta tutto il Carboni adesso nella metà campo avversaria con Simone Marini che chiaramente vediamo se effettuerà il lancio in piena area ottenterà il tiro direttamente verso la porta difesa da Mennella tutto pronto con la battuta parte la conclusione la deviazione della barriera ma poi ha visto anche il fallo in piena area il direttore dell'incontro per assegnare questo calcio di punizione in favore dell'Atletico Narcao nulla di fatto esattamente al 32esimo minuto 30 secondi qui dallo stadio Zoboli di Carboni ha sempre risultato fermo sulla parità 0 a 0 ci ha provato il Carboni in questa circostanza con il tiro di Simone Marini la palla si è chiaramente stampata sulla barriera e poi sull'azione che è proseguita c'era il fallo chiaramente in piena area da parte di un giocatore del Carboni per cui il calcio di punizione è decretato in favore dell'Atletico Narcao rilancio di Mennella che supera la fascia mediana del campo nella zona dove svette di testa sanna l'anticipo ai danni dei giocatori avversari che poi conquistano questo pallone cercano di allargare il gioco indirizzandolo verso Marongiu cerca lo scatto Marongiu la palla però varca la linea bianca di fondo campo un nulla di fatto ha cercato di allungarsi immediatamente l'Atletico Narcao il pallone è terminato al di là della linea bianca la rimessa del portiere Bove ancora Narcao che cerca chiaramente di conservare preziosamente il controllo della sfera finisce a terra il numero 9 pin non c'è fallo dice l'arbitro si prosegue il pallone adesso con Davide Massa tenta l'allungo col destro nella zona del campo dove però è molto ben messo Porcu che guadagna palloni su palloni adesso nuovamente la squadra di Gia Giomedda ci prova sul versante destro la palla si perde nuovamente in fallo laterale rimessa con le mani assegnata alla formazione mineraria con Davide Massa sempre pronto sulla sinistra alla rimessa in gioco il tocco indirizzato a Bullegas ancora lo scambio tra i due il rilancio dello stesso Massa alza questo pallone a campanile ma sempre sui giocatori dell'Atletico Narcao che cercano lo scatto con De Montis sul pallone però è Angelo May scivola May c'era però la spinta ai suoi danni alle spalle per cui il calcio di punizione in favore del Carbonia si gioca adesso sempre vicino alle rigore del Carbonia del Carbonia stesso con il rilancio del portiere Bove che attende ovviamente il piazzamento dei compagni si perde un po' di tempo per la ripresa del gioco nel frattempo se ne sono andati via 34 minuti e 30 secondi in una partita un pochino scialba per la verità insomma dopo un inizio promettente il Carbonia deve rimettere il pallone in gioco con Daniele Bove pronto al rilancio Bove rilancio che è venuto in questo istante la palla nuovamente sulla trequarti campo del Narcao l'intervento di testa dei giocatori di Medda che allontanano il pallone controllano la sfera con Porcu può avanzare Porcu il rilancio col destro nella zona dove ben appostato Angelo May l'anticipo ai danni del suo diretto avversario Pinna ancora Angelo May per vie orizzontali cerca di far ripartire la manovra per la formazione mineraria dalla propria metà campo e corda l'appoggio verso Di Meglio con tranquillità avanza ancora la formazione del Carboni il rilancio per vie verticali verso Marini che però viene anticipato sono i rossi di Narcao cercano di controllare questo pallone qui sotto la nostra postazione la palla si perde nuovamente in fallo laterale al ridosso della fascia mediana la rimessa è assegnata al Carboni con Di Meglio che cerca chiaramente di servire qualche compagno di squadra serve Momo Cosa l'anticipo ai danni di carta sempre però Di Meglio si impadronisce della sfera serve nuovamente Marco Fodi buona una finta cerca l'auto destro parte il traversone di Fodi l'intervento difessivo da parte dei giocatori di Narcao ma sempre su Bibo Carta e poi vede forse un fallo di mano il direttore dell'incontro ha fermato il gioco ci sono anche le proteste di Nicola Sanna indirizzate al direttore dell'incontro probabilmente era involontario forse il tocco con la mano insomma mi pare di aver visto un tocco con la mano ma forse era anche un po' involontario possiamo anche dirlo fatto sta che il calcio di punizione è assegnato alla formazione del Narcao con Mennella pronto al rilancio la palla che giunge sulla trequarti campo del Carboni ha sfetta di testa a me anticipa a tutti cerca di servire in un momento Marini che ha tentato a sua volta di rilanciare Bullegas sono attenti comunque i giocatori dell'atletico Narcao che possono avanzare con Giancarlo Porcu sempre molto attivo certamente uno dei migliori in campo ancora Porcu in possesso del pallone serve il suo compagno di squadra Pinna ancora Pinna tenta la conclusione a lunga distanza la palla è stata ribattuta il muro dei giocatori del Carboni ancora l'intervento da parte di Angelo Mea poi vede il fallo il direttore dell'incontro assegna un calcio di punizione in favore dell'atletico Narcao con il cartellino che sta per essere estratto dal direttore dell'incontro probabilmente vediamo stanno parlottando Angelo Mea con il signor Medda della sezione cagliaritana vivaci vivaci proteste vediamo adesso da parte di Angelo Mea ai danni del direttore dell'incontro fatto sta che bisogna allontanarsi perché l'arbitro ha deciso per questo calcio di punizione un Narcao che naturalmente cerca di affacciarsi costantemente verso l'area di rigore del Carboni adesso ha guadagnato questo calcio di punizione a circa 4-5 metri di distanza dal limite dell'area del Carboni in posizione centrale la formazione di Gia Gio Medda che si è presentata qui allo stadio Zoboli chiaramente con l'intento di fare risultato positivo vuole assolutamente proseguire la sua marcia di avvicinamento alla zona sicurezza del campionato Carboni che ormai è vicinissimo veramente alla salvezza anticipata e Narcao che ovviamente ci sta provando esattamente con il numero 5 Giancarlo Porcu da quella posizione tenterà il tiro diretto verso la porta difesa da Daniele Bove tutto pronto amici sportivi di Radio Star e Tele Sardegna Network e .com esattamente quando siamo giunti al 38esio minuto del corso di questo primo tempo risultato sempre fermo 0-0 con l'Atletico Narcao pronto alla battuta barriera schierata 4 per quanto riguarda il Carbonia tutto a ridosso della propria area di rigore la formazione mineraria con Giancarlo Porcu pronto alla battuta sarà certamente lui a scagliare il tiro prende la rincorsa tentativo di tiro a rete grandissimo gol grandissimo gol di Porcu veramente una conclusione eccezionale da parte del numero 5 lo avevamo detto era lui insomma l'incaricato del tiro la palla calciata con l'interno destro si è insaccato alle spalle di Bove veramente un euro gol da parte del giocatore dell'Atletico Narcao che viene festeggiato qui sotto la nostra postazione un gol veramente straordinario esattamente al 38esio minuto e 30 secondi nel corso di questo primo tempo un gran gol un gran gol di Porcu ha portato in vantaggio la formazione dell'Atletico Narcao che chiaramente ha delle motivazioni fortissime accesissime in questa partita staremo a vedere adesso la risposta del Carbonia ricordiamo il Carbonia si era reso minaccioso all'inizio della partita con un'incursione da sinistra di Marini un traversone in piena area sul quale si era avventato il giocatore del Carbonia Bibo Carta c'era stato il salvataggio sulla linea da parte della difesa del Narcao e poi durante il primo tempo chiaramente in questo primo tempo intorno al 10 minuto una incursione di Pinna Davide Pinna che si era reso veramente minaccioso verso la porta difesa da Bove era dovuto uscire sui piedi dall'attaccante per salvare la propria porta e adesso il gol della formazione dell'Atletico Narcao veramente un grandissimo gol con Porco al 38esio minuto direttamente sugli sviluppi di calcio piazzato ha messo la palla sotto l'incrocio dei pali grande esultanza ovviamente anche del pubblico giunto qui da Narcao a seguire la partita ancora il tentativo da parte di Poles che allontana il pallone la zona del campo dove può intervenire di testa Massimo Corda all'appoggio verso Angelo Mei il Carbonia che cercherà ovviamente la reazione dopo aver subito questo gol staremo a vedere se avrà la forza la volontà giusta la formazione mineraria in questa partita ancora avanza di meglio supera la fascia centrale del campo l'appoggio indirizzato all'indietro a Foddi un po' macchinosa l'azione del Carbonia ancora Bibocarta grandissimo numero con il tacco di Bibocarta servito Marini Carboni in attacco Momocosa cerca lo scatto in velocità viene fermato da Poles con grande mestiere aggira benissimo Momocosa rilancia nel pallone lontano nella zona del campo dove può intervenire però Foddi la partita naturalmente si accende con Foddi che adesso va in pressione verso Di Meglio ancora Foddi cerca di allungarsi il pallone sulla corsia di destra il pallone stesso termina direttamente a bordo campo non c'è fallo dice l'arbitro e assegna la rimessa con le mani in favore della formazione atletico Narcao quando al mio cronometro mancano 4 minuti 30 secondi allo scadere del primo tempo Narcao 1 Carboni a 0 qui allo Zoboli gol al 38esio minuto esattamente ad opera di Giancarlo Porco un gol veramente di ottima fattura con un tiro che si è insaccato sotto la traversa della porta difesa da Bove che nulla ha potuto sulla gran conclusione del numero 5 dell'atletico Narcao rimessa per il Carboni qui sotto la nostra postazione si gioca qualche metro più avanti rispetto alla fascia mediana del campo il Carboni da metà campo del Narcao avanza con Di Meglio poi deve indietreggiare servire Massimo Corda per via orizzontali ancora la mezzala del Carboni a Sanna allarga il gioco sulla sinistra verso il numero 3 il fluidificante si tratta di Massa allunga il pallone adesso verso l'area di rigore avversaria con lo scatto di Momocosa ancora Cosa cerca chiaramente di superare in velocità il suo diretto avversario guadagna il calcio d'angolo dice l'arbitro angolo in favore del Carboni un Carboni mi pare si sia svegliato dopo aver subito la rete della formazione della 3-2 Narcao la partita si sta rendendo molto più vivace lo avevamo detto insomma un po' troppo sonnolenta dopo i primi 10 minuti il Narcao ha sbloccato il risultato e adesso il Carboni chiaramente ci prova a rimettersi in carreggiata sulla sinistra Simone Marini pronto alla battuta dall'angolo parte lo spiovente colpo di testa di Massimo Corda allontana il pallone Mennella sui piedi di Bibocarta un batti e ribatti ancora Polessa alza questo pallone a campanile Marini tenta la botta al volo col sinistro cicca il pallone e la palla si perde direttamente a bordo campo ci ha provato non era facile ovviamente la conclusione al volo da parte di Simone Marini e il pallone che si è perso direttamente a bordo campo un derby che si è acceso improvvisamente e naturalmente mancano al nostro cronometro 3 minuti salvo recupero allo scadere del primo tempo sempre 1-0 il vantaggio della formazione dell'Atletico Narcao con il rilancio da parte di Mennella palla che giunge adesso sulla trequarti campo avversaria anzi proprio sulla trequarti campo dell'Atletico Narcao guadagna il fallo laterale la formazione mineraria con Massa Davide Massa pronto alla battuta sempre sull'out sinistro con le mani ha cercato di mettere in movimento cosa? anticipato proprio dall'autore del gol numero 5 Porco ha alzato il pallone a campanile ancora però sono i giocatori del Carbonia con Angelo Me il lancio da parte di Me verso Marini che poi commette fallo dice l'arbitro e danni al suo diretto avversario forse ha visto una spinta per cui il calcio di punizione in favore della squadra del Basso Sulcis che come ho detto in precedenza insomma diverse volte chiaramente ha delle motivazioni molto forti per fare bene in questa partita lo ha dimostrato comunque anche il grandissimo gol realizzato dal numero 5 Porco grande concentrazione gran tiro e la palla che si è insaccata alle spalle dell'estremo difensore Bove ancora il tentativo da parte del Carbonia con Simone Marini che poi è stato anticipato da Piras si portano il pallone al di là della Nea Bianca i giocatori dell'Atletico Narcao la rimessa in gioco proprio per la formazione mineraria con le mani Bibo Carta ottimo il suo stop col destro ha cercato di addomesticare questo pallone difficile l'intervento e i suoi danni da parte dei giocatori dell'Atletico Narcao hanno spedito il pallone stesso al di là della Nea Bianca si gioca sul lato corto sul versante destro rispetto all'attacco della formazione mineraria il rilancio da parte del Carbonia in piena area il tocco dei giocatori dell'Atletico Narcao che chiaramente cercano di allontanare il pallone come possono ma sui piedi di Bullegas che poi a sua volta sbaglia l'appoggio fa partire nuovamente l'azione del Narcao con questo rilancio in avanti si gioca adesso a ridosso della fascia media del campo l'intervento di Angelo May sul giocatore con la maglia numero 9 pinna ma ha visto un fallo precedente l'arbitro ha segnato un calcio in punizione in favore del Carbonia Marini cerca di velocizzare l'azione ancora Marini ha davanti a sé tutta la difesa avversaria Carbonia nuovamente in pressing con Foddi sulla sinistra guadagna questo pallone Foddi e poi però si allunga la sfera direttamente in fallo di fondo nulla di fatto nel frattempo rimasto a terra addolorante un giocatore dell'Atletico Narcao facciamo una breve sosta la regia per un istante Caffè dello Sport in via Costituente 1 a Carbonia la caffetteria offre le migliori colazioni con pasticceria fresca artigianale i migliori aperitivi preparati con cura da personale qualificato ed esperienza decennale al Caffè dello Sport inoltre i migliori snack e tramezzini toast preparati da Sergio Caffè dello Sport il punto d'incontro nel centro città il giusto relax con la massima gentilezza giorno di chiusura settimanale giovedì benissimo ben rientrati qui dallo stadio Zoboli di Carbonia in diretta su telesardegnanetwork.com e naturalmente su Radio Star 102.7 MHz in FM stereo il rilancio da parte di Mennella quando siamo ormai allo scadere del primo tempo sempre 1-0 il vantaggio dell'Atletico Narcao grazie al gol al 38esio minuto realizzato da Porco attenzione allo scatto da parte del numero 7 Pillola che però viene anticipato molto bene a Davide Massa l'appoggio verso Sanna chiaramente seguiamo attentamente questo finale di primo tempo 1-0 per il Narcao avanza il Carbonia Bullegas da sinistra a destra ancora Bullegas buona l'azione da parte dei giocatori minerali con Bibo Carta controlla questo pallone tutto spostato a destra nella metà campo avversaria parte lo spiovente Marini cerca il controllo Marini insegue questo pallone Carbonia che naturalmente cerca di allungarsi e proprio in questa azione termina il primo tempo dopo 60 secondi esatti l'arbitro manda le due formazioni nel riposo diciamo dopo 10 minuti ci sono state un'occasione per parte il Carbonia era partito molto bene con Simone Marini da sinistra aveva effettuato intorno al quinto minuto un traversone sul quale Bibo Carta ha toccato il pallone la palla stava per insaccarsi alle spalle del portiere salvata sulla linea poi un'azione un'incursione successiva intorno al decimo minuto da parte del giocatore con la maglia numero 9 Davide Pinna che si è presentato tutto solo davanti a Bove è stato bravissimo a fermarlo proprio in uscita e poi diciamo dopo una parte di partita non troppo esaltante c'è stato il gol a sorpresa da parte del numero 5 Giancarlo Porco un tiro veramente fulminio bellissimo sotto la traversa e la palla ha varcato la porta del Carbonia per l'1-0 attuale della partita siamo allo scadere alla fine del primo tempo 1-0 per l'Atletico Narcao ci sentiremo nel corso della ripresa dalla linea per l'istante va la regia FAP società cooperativa ARL via Gramsci 255 Carbonia azienda specializzata iscritta all'albo gestori ambientali nelle categorie 10A 10B 9C 8D 5E 4F oltre al SOA oggi 12 classe terza certificata ISO 9001 la FAP società cooperativa ARL garantisce massima affidabilità nei settori tecnici operativi per la gestione delle attività di bonifica ordinaria e per interventi straordinari il servizio di pronto intervento garantisce un'immediata azione nell'arco delle 24-48 ore successive al vostro contatto i nostri tecnici sono sempre disponibili a sopralluoghi in tempo reale nel formulare senza oniri per aziende privati preventivi per la realizzazione di qualsiasi intervento fra i quali bonifiche di amianto compatto di siti in presenza di amianto friabile messa in sicurezza permanente di aree inquinate recuperi ambientali smaltimento di rifiuti speciali e trasporto merci pericolose la FAP società cooperativa ARL esegue lavori per aziende pubbliche e private in tutta l'isola fra le quali Abanoa Agris Igea Area consorsi di bonifica Enel e collaborazioni professionali presso tutti i comuni della Sardegna l'azienda si avvale di personale specializzato iscritta all'albo nazionale delle imprese per la gestione dei rifiuti specificatamente alle categorie 5F e 10B e C ai sensi dell'articolo 12 comma 6 del decreto ministeriale 406 del 98 FAP società cooperativa ARL via Gramsci 255 Carbonia telefono 0781 67 0699 in diretta dallo stadio Zoboli di Carbonia pronti per il secondo tempo formazioni schierate qui sul manto erboso dello stadio di Carbonia zeriamo naturalmente il cronometro ricordando che la formazione dell'atletico Narcao ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1 a 0 ricordiamo 1 a 0 il vantaggio al termine del primo tempo in favore dell'atletico Narcao grazie alla rete realizzata al 38esimo minuto da Porcu in questo istante ha dato il via alle ostilità il secondo tempo il direttore di incontro il signor Marco Med della sezione caglieritana ricordiamo il gol al 38esimo di Porcu direttamente su calcio piazzato un gran tiro che si è saccato alle spalle sotto la traversa del portiere del Carbonia un atletico Narcao venuto certamente qui nella città mineraria per cercare chiaramente un risultato positivo Carbonia che si era reso minaccioso all'inizio del primo tempo con una incursione da sinistra di Marini un traversone in aria sul quale Bibo Carta va toccata a botta sicura la palla salvata sulla linea dai difessori del Narcao intorno al 10 minuto sempre il primo tempo un'altra occasione questa volta nell'area del Carbonia con lo scatto in velocità di Pinna con l'attaccante del Narcao si è presentata tu per tu con Bove il quale è stato bravissimo e reattivo nell'uscita ed è riuscito a salvare dalla capitolazione della sua squadra e poi però al 38esimo il gran gol che abbiamo descritto attenzione adesso l'Atletico Narcao si porta minaccioso con una svarione da parte dei difensori del Carbonia e subito in apertura il calcio d'angolo in favore della formazione del Basso Sulcis che vuole assolutamente un risultato prestigioso quest'oggi dalla bandierina seguiamo l'azione da parte dell'Atletico Narcao esattamente con il numero 8 Podda nel frattempo dobbiamo appuntare anche l'ingresso in campo dall'inizio del secondo tempo di Karim Imed vi daremo fra qualche istante anche il giocatore che è uscito al termine del primo tempo attenzione perché l'Atletico Narcao si rende ancora minaccioso con questo rilancio allontano il pallone come possono i giocatori della Carbonia ma sempre Pirassa allarga il gioco dalla parte opposta sull'onipresente Giancarlo Porcu che sta facendo un po' tutto quello che vuole in questa partita il migliore in campo finora anche il grandissimo gol proprio del giocatore con la maglia numero 5 della squadra allenata a Giagiometta riparte ancora l'Atletico Narcao sempre sulla sinistra il controllo del numero 8 Podda finisce a terra un giocatore delle Carbonia guadagna il calcio di punizione sulla propria trequartità campo la formazione del Carbonia in un primo momento sembrava il calcio di punizione decretato in favore dei Minerari ci ripessa l'arbitro assegna una punizione in favore del Narcao che cerca di avanzare nuovamente un altro fallo fischiato a circa 5-6 metri di distanza dal limite dell'area del Carbonia leggermente spostato sulla sinistra con De Montis che è andato a terra pressato da un giocatore della formazione Mineraria calcio di punizione con il solito Porcu pronto alla battuta già l'autore del gol del vantaggio per la formazione dell'Atletico Narcao che adesso chiaramente si sta portando minaccioso verso la porta del Carbonia ancora con questo calcio piazzato e Poles vicino a sé anche Porcu che ha già realizzato un gran gol nel corso del primo tempo su calcio piazzato 1-0 il vantaggio dell'Atletico Narcao quando sono trascorsi al mio cronometro tre minuti esatti nel corso di questa ripresa con il Narcao nuovamente in posizione d'attacco barriera predisposta siamo ai 25 metri barriera predisposta dalla portiera del Carbonia tutto pronto con Porcu che calcia nuovamente attenzione la grande parata questa volta di Bove che chiaramente deve tuffarsi sulla sua destra e deviare il pallone in calcio d'angolo grandissimo ancora la conclusione di Porcu è impegnato seguramente Bove in questa circostanza che si è salvato con un tuffo felino sulla sua destra deviando il pallone in calcio d'angolo terzo angolo per il Narcao due ne ha battuto il Carbonia nel corso del primo tempo 1-0 il vantaggio per la formazione del Basso Sulcis che è partita subito molto bene anche in questo secondo tempo sta per effettuare la battuta dall'angolo dalla sinistra sul versante sinistro dell'attacco del Narcao parte lo spioventinare all'uscita di Bove con i pugni allontana il pallone direttamente fuori area ma insiste ancora il Narcao con Piras buona ancora la sua azione d'attacco parte il traversone attenzione Narcao insidiosissimo l'intervento risolutore da parte dei giocatori del Carbonia che sono riusciti a liberare la propria area di rigore Carbonia che adesso cerca di portarsi in posizione offensiva con lo scatto di Bullegas l'intervento di Poles buona l'azione da parte del Carbonia sulla ripartenza è dovuto intervenire Poles per allontanare direttamente il pallone in out la rimessa con le mani da parte di Sanna verso Foddi ancora l'intervento su Marini il pallone controllata da Bibo Carta avanza Carta sposta il pallone verso Nicola Sanna adesso attacca un po' a ventaglio la formazione di Hollargi tentativo di triangolazione con Bullegas cercato di servire nuovamente sul fondo Massa il pallone nuovamente allontanato in fallo laterale sempre il Carbonia adesso in posizione offensiva la rimessa con le mani di Sanna l'appoggio in indietro verso il centrocampista Foddi allarga il gioco nuovamente a Sanna dove trova smarcato nuovamente Massa sul versante sinistro e l'arbitro vede il pallone anzi sulla segnalazione del suo collaboratore il pallone della linea bianca assegna la rimessa con le mani proprio alla formazione del Narcao che può ripartire da sinistra a destra con il tocco da parte del numero 8 Pod allarga il gioco verso il suo compagno di squadra Pinna smarcato sull'out sinistro finisce a terra Pinna sull'assalto da parte dei giocatori minerari il calcio di punizione già battuto con Meloni che tocca il pallone col sinistro indirizzandolo verso il suo compagno di squadra Podda cerca chiaramente il traversone in aria verso De Montis l'uscita da parte dell'estremo difessore del Carbonia Bove anticipa tutti rinvia lungo la palla sull'out destro altissima nella zona del campo dove però nessun giocatore del Carbonia è appostato la palla si perde direttamente a bordo campo ovviamente secondo tempo iniziato con velocità da ambo le parti con l'Atletico Narcao in vantaggio ricordiamo per una rete a zero dopo sei minuti del corso della ripresa ricordiamo il marcatore nel corso del primo tempo è stato Giancarlo Purcus sugli sviluppi di calcio di punizione abbattuto l'estremo difessore del Carbonia Bove con una conclusione veramente spettacolare adesso il Carbonia sono i bianchi di Carbonia che possono avanzare con Nicola Sanna l'appoggio dell'esperto centrocampista del Carbonia indirizzato verso Massa buono l'appoggio a Momo Cosa che però a sua volta viene anticipato ed è il nuovo entrato tocca il suo primo pallone Karimi Med che gioca dall'inizio di questo secondo tempo la palla nuovamente allungata verso i suoi compagni di squadra Pinna che però è stato anticipato proprio da Massimo Corda per cui sono i giocatori del Carbonia nuovamente in possesso della sfera può avanzare Angelo May allunga il pallone sulla sinistra indirizzando la Massa che ha davanti a sé al suo compagno di squadra Bullegas tentativo di triangolazione lo scatto da parte dei giocatori del Carbonia con Momo Cosa che è finita a terra spintonato un pochino alle spalle e quindi guadagna il calcio di punizione la formazione di Maurizio Largiu che sta per mandare in campo il giocatore con la maglia numero 15 Gabriele Sabio pronto al suo ingresso in campo qui sotto la nostra postazione staremo a vedere chi lascerà il rettangolo di gioco vediamo tutto pronto per questo calcio piazzato ma forse ci sarà il cambio prima del calcio di punizione vediamo numero 11 Bullegas abbandona adesso il manto erboso qui dello Zoboli con gli applausi del pubblico Bullegas sta abbandonando il rettangolo di gioco esattamente dopo 7 minuti e 50 secondi sul rettangolo di gioco Gabriele Sabio cerca di dare maggior peso all'attacco il mister del Carbonio che chiaramente non vuole assolutamente perdere questa partita in casa e sotto sta soccombendo la formazione minerale del Carbonio al cospetto di un atletico Narcao sceso in campo motivatissimo calcio piazzato da parte di Marini ed è proprio il Carbonio che cerca di toccare il suo primo pallone col nuovo entrato Gabriele Sabio anticipato all'ultimo istante la rimessa laterale sul lato corto dell'area di rigore dell'atletico Narcao Carbonio chiaramente che cerca di attaccare adesso in questo inizio secondo tempo avanza la formazione mineraria poi c'è un fallo ai danni del nuovo entrato in questa ripresa da parte dell'atletico Narcao si tratta di Karimi Med per cui calcio di punizione in favore alla formazione della formazione del Basso Sulcis con l'estremo difensore Roberto Mennella pronto alla battuta dalla propria trequarti campo attende il piazzamento dei compagni si appresta così al rilancio lungo palla che giunge sulla trequarti campo del Carboni allo stacco di testa di Mei c'è un rimpallo che però favorisce il numero 7 Pillolla buona la sua azione d'attacco di Pillolla parte il traversone attenzione De Monti scolpo di testa la palla è ribattuta ancora un'insidia verso la porta difesa da Bove che poi chiaramente si salva grazie anche all'intervento dei suoi compagni di squadra della difesa con Massimo Corda che esce molto bene appoggia a Foddy quindi Momo Cosa verso Simone Marini che poi finisce a terra a ridosso della fascia media del campo il calcio di punizione in favore della formazione mineraria vediamo l'arbitro cosa decreta evidentemente c'è stato il tocco su Simone Marini che rimane a terra acciaccato vediamo se l'arbitro farà ripetere l'esecuzione del calcio di punizione va a parlottare con il collaboratore qui sotto la nostra postazione del direttore dell'incontro il signor Marco Medda della sezione cagliaritana che adesso si avvicina alla panchina vediamo sta parlottando con la panchina del Carboni a calcio evidentemente allontana eccolo lì allontana direttamente negli spogliatoi il presidente giganti del Carbonia presidente giganti del Carbonia che viene allontanato direttamente dall'arbitro qualche parolina di troppo evidentemente per il presidente del Carbonia fatto sta che si riprenderà probabilmente con la rimessa con le mani da parte del giocatore dell'Atletico Narcao qui sotto la nostra postazione ridosso della panchina del mister biancoblù Maurizio Largiù adesso troppe discussioni in campo con l'arbitro dell'incontro che fa riprendere il gioco annota evidentemente sta annotando l'espulsione da parte del presidente del Carbonia e si può riprendere con il gioco quando sono trascorsi 10 minuti 30 secondi di questo secondo tempo sempre con la formazione del Basso Sulcis dall'Atletico Narcao in vantaggio per una rete a zero grazie al gol realizzato al 38esimo del primo tempo da Porcu su calcio di punizione da segnalare che lo stesso Porcu proprio in apertura di ripresa è stato minaccioso con un altro gran tiro su calcio piazzato sul quale è dovuto intervenire Bovea deviare in calcio d'angolo certamente sta giocando una grande partita Porcu il migliore in campo finora il calcio di punizione di Poles il lancio lungo di Poles verso l'area biancoblù tentativo di scatto di De Montis c'è stato un tocco da parte di un giocatore del Carboni e quindi l'angolo ancora in favore dell'Atletico Narcao se non vado errato questo è il quinto angolo in favore della formazione del Narcao tre ne ha battuto il Carboni 1 a 0 il vantaggio ancora per la formazione ospite il calcio dalla bandirina che sta per battere esattamente il numero 8 Franco Podda posizione il pallone nella piccola area del calcio d'angolo parte dalla lunetta lo spiovente ancora l'intervento di testa dei giocatori minerali che allontanano nella zona del campo dove è potuto intervenire Pillola è finita terra De Montis vediamo se c'è il fallo laterale in favore del Carbonia la rimessa che è avvenuta in questo istante con Massa l'anticipo ai danni di Momo Cosa da parte di Karim Eimed che spedisce il pallone nuovamente in fallo laterale Carbonia che cerca un po' di accelerare le operazioni non vuole forse chiaramente perdere questa partita qui allo Zoboli al cospetto di un atletico Narcao che comunque si è presentato certamente in gran forma lo aveva dimostrato nelle ultime settimane la squadra allenata da Giagio Medda che vuole assolutamente uscire dalla zona difficile del campionato quella della retrocessione e quest'oggi sta vincendo con una prestazione comunque superlativa adesso è Massa pronto alla battuta proprio vicino alla panchina di Mister Medda che osserva attentamente gli sviluppi della partita e il Carbonia nuovamente in possesso del pallone con Sanna allarga il gioco per via orizzontale verso Massimo Corda cerca di allungare il pallone stesso a Di Meglio il Carbonia che cerca di attaccare sulla corsia di destra ancora Bibo Carta lo scatto la sovrapposizione di Di Meglio che cerca ovviamente di controllare questo pallone non è riuscito nell'intento nulla di fatto la palla che si perde direttamente a bordo campo per la rimessa in favore della formazione dell'Atletico Narcao 1-0 il vantaggio quando sono trascorse esattamente 12 minuti 50 secondi al nostro cronometro amici di Telesardegna Network punto com e di Radio Star con la rimessa in gioco proprio dell'estremo difensore Mennella il rilancio del portiere la palla che giunge sulla trequatticampo del Carbonia lo stop è del numero 4 Foddy che poi a sua volta viene anticipato il pallone nuovamente alzato a campanile da Di Meglio nella zona del campo dove lotta molto bene carta si impadruisce del pallone cerca di servire Marini che però viene anticipato ancora una volta dal Mastino Piras ancora Carbonia in possesso del pallone con Foddy cerca di sfondare Foddy è stato fermato da due giocatori del Narcao che cercano di allungare il pallone indirizzandolo a Pinna tentativo di scatto di Pinna al retropassaggio da parte dei giocatori del Carbonia l'intervento ad opera Di Bova che spazza direttamente la propria area di rigore coi piedi spedendo il pallone stesso al di là dello stadio della gradinata di fronte alla nostra postazione rimessa in gioco in favore della formazione dell'Atletico Narcao siamo sulla sinistra sul versante d'attacco della formazione ospite la rimessa in gioco è avvenuta in questo istante lo stop con la coscia di Pinna cerca di appoggiare l'autore del gol porco un tentativo ancora da parte degli uomini di Gia Giomedda fermati ancora difensori di Carbonia che a loro volto cercano lo scatto in velocità con Momo Cosa ha servito il numero 15 Sabio che però è stato anticipato al di là con un fallo ai danni appunto da parte del giocatore vediamo dell'Atletico Narcao probabilmente la protesta anche da parte del giocatore del Carbonia nel frattempo è stato assegnato probabilmente o un calcio di punizione o una rimessa laterale qui sotto la nostra postazione proprio in favore della formazione del Narcao con il capitano Andrea Garau pronto alla rimessa con le mani si tratta di fallo laterale non era fallo nonostante le proteste dei giocatori ancora rimessa in gioco per l'Atletico Narcao finisce a terra il numero 14 Karimi Med non c'è fallo dice l'arbitro Carbonia che cerca di portarsi minaccioso verso l'area avversaria l'appoggio verso il centro ancora Sabio cerca lo scambio con Marini Simone Marini tentativo di tiro la palla che termina di poco sul fondo grandissimo tiro gran numero di Simone Marini col sinistro un tiro beffardo che si è abbassato improvvisamente la palla che ha carezzato leggermente la parte alta della traversa ed è finito a fondo campo un'occasione per il Carbonia 1-0 rimane 1-0 il risultato in questo frangente con la formazione mineraria che in questa circostanza si è resa minacciosa con Simone Marini che ha scagliato veramente un gran sinistro e la palla che si è persa direttamente a fondo campo sempre 1-0 il vantaggio mentre rimane a terra un giocatore della formazione dal Narcao facciamo una breve sosta a linea della regia Macelleria Puliga Cristiano carni bianche e rosse selezionate nei migliori allevamenti sardi e nazionali Macelleria Puliga Cristiano e anche spedizioni di prodotti tipici sardi salumi oli formaggi in tutta Italia Macelleria Puliga Cristiano Piazza Ciusa Mercato Civico box numero 5 a Carbonia telefono 0781 6 7 3 9 5 3 cellulare 3 4 9 7 2 6 9 8 0 2 e in Via Lazio 20 21 telefono 0781 5 7 1 8 0 4 a Carbonia Sport Point di Marco Serra in via Nuoro 56 a Carbonia esclusivista dei migliori marchi dell'abbigliamento sportivo quali Jacket sponsor tecnico della Nazionale Italiana di Nuoto Sportica per tutti gli amanti delle scarpe da calcetto adatte per i campi in parquet e delle superfici sintetiche e dei prodotti B-Bike per gli appassionati di ciclismo allo Sport Point troverete un vasto assortimento di prodotti come Adidas Nike Mizuno per il calcio calcetto running e intimo specializzato nel campo sportivo con i marchi Joma inoltre troverete i migliori guanti da portiere Hull Sport specialista nella distribuzione di prodotti alle società sportive per il calcio basket volley e tempo libero oltre che un vasto assortimento dell'attrezzatura ufficiale del Cagliari Calcio con il marchio esclusivo robe di cappa ricordate Sport Point di Marco Serra in via Nuoro 56 a Carbonia telefono 07 81 67 16 95 ancora in diretta qui dallo stadio Zoboli di Carbonia con la formazione mineraria che sta inseguendo un atletico Narcao schierato molto bene dal mister Gia Gio Medda molto ben concentrati i giocatori dell'atletico Narcao nel frattempo adesso c'è una discussione sulla panchina del mister di Narcao non si capisce bene cosa stia accadendo insomma con l'arbitro e anche il collaboratore vicino alla panchina dell'atletico Narcao grandissime discussioni il risultato è di 1 a 0 in favore della formazione ospite grazie al gol realizzato nel corso del primo tempo da Giancarlo Porco al 38esimo minuto direttamente sul calcio piazzato vediamo un cartellino rosso un cartellino rosso adesso indirizzato verso un giocatore credo della panchina sta abbandonando adesso il il campo esattamente il numero 18 Daniele Carta che ha detto qualche parola di troppo evidentemente vediamo continua un po' le discussioni fatto sta che il risultato è di 1 a 0 grande nervosismo anche all'interno il rettangolo di gioco veramente una partita che era sembrata molto corretta improvvisamente esploso questo nervosismo sulle panchine avevamo visto in effetti anche il mister Maurizio Largio prima rivolgersi alla panchina avversaria grandi discussioni e poi l'arbitro sulla segnalazione evidentemente della collaboratore di destra del signor Marco Med della sezione caglialitana ha fermato il gioco per la verità insomma il gioco era già fermo e ha allontanato il giocatore con la maglia numero 18 Daniele Carta da segnalare che in precedenza aveva allontanato anche il presidente del Carbonia Giganti mandandolo anzitempo negli spogliatoi per qualche parolina di troppo adesso il gioco che può riprendere è fermo da oltre due minuti si può riprendere quando siamo intorno al diciottesimo nel corso di questo secondo tempo il rilancio di Mennella sempre 1-0 facciamo chiarezza 1-0 il vantaggio della formazione dell'Atletico Narcao la partita comunque finora è stata correttissima adesso ancora il rilancio da parte dei giocatori minerali che guadagnano la rimessa laterale esattamente con il numero 2 Di Meglio che deve rimettere il pallone in gioco serve il suo compagno di squadra Massimo Corda schierato sin dall'inizio dalla mister Maurizio Largiù in posizione difensiva ovviamente da difensore centrale Massimo Corda ancora Di Meglio l'appoggio verso Foddi bisogna macinare gioco per quanto riguarda la formazione del Carbone se vuole risalire un po' la china ancora Bibo Carta questa volta ha un buon palleggio ma poi sbaglia il tocco indirizzato verso Momocosa facilita l'intervento dei giocatori dell'Atletico Narcao che cercano di far ripartire subito la manovra offensiva in contropiede la palla poi viene deviata direttamente in fallo laterale si fanno sentire i sostenitori di Narcao giunti qui allo stadio Zoboli per seguire la partita la loro squadra del cuore naturalmente che sta inseguendo campionato ancora il controllo da parte del numero 7 Pillola guadagna la rimessa laterale il numero 7 della formazione dell'Atletico Narcao spedito il pallone in avanti attenzione a De Montis tentativo di tiro col sinistro la palla si impenna sulla traversa nulla di fatto ci ha provato con un gran tiro al volo De Montis si è girato improvvisamente ha fatto partire questo tiro la palla colpita troppo da sotto è terminata abbondantemente altissima sulla traversa della porta difesa da Daniele Bove che accuratamente posiziona il pallone nella piccola area si appresta al rinvio il rilancio che è venuto in questo istante ad opera del capitano del Carbonia lancio che giunge sulla fascia centrale del campo l'intervento del numero 8 Podda cerca col sinistro di far viaggiare ancora De Montis che insegue a grandi falcate il pallone l'intervento difensivo di Angelo May anzi no si tratta di Massimo Corda spedisce il pallone al di là della linea bianca ancora Corda su De Montis allontano il pallone come posto i giocatori minerari attenzione al gran tiro e la parata a terra ancora di Bove ci ha provato dalla lunga distanza Porcu da circa 25-28 metri gran tiro la palla che viene controllata da Bove che si è accartocciato e ha fatto subito ripartire la manovra del Carbonia con Massa il lancio oltre a fascia media del campo l'intervento risolutore da parte dei giocatori dell'Atletico Narcao che a loro volta cercano di ripartire da sinistra a destra un batti ribatti c'è un fallo ai danni di Pinna per cui un calcio di punizione in favore della formazione del Narcao che come ho detto in precedenza sta giocando certamente con grande impegno grande determinazione concentrazione Carbonia che non ci sta evidentemente a perdere questa partita casalinga ci sta provando la formazione mineraria certamente il Narcao ci tiene a fare un risultato positivo Carbonia che è vicinissimo alla salvezza anticipata adesso è Sanna nuovamente Sanna in possesso del pallone l'appoggio a massa il controllo di massa cerca chiaramente qualche compagno di squadra e poi è Foddi che sbaglia completamente il passaggio e termina pallone colpito da Foddi che termina abbondantemente a fondo campo le proteste anche del pubblico di Carbonia che chiaramente vogliono vedere una squadra grintosa la rimessa con le mani da parte del giocatore con la maglia numero 7 Pillola ancora l'intervento dei giocatori minerari un batti ribatti consentono però ancora sulla sinistra allo scato il numero 8 Podda ha davanti a sé di meglio cerca il dribbling Podda non riesce nell'intento ancora Bibo Carta sbagliato perché è pressato parte il traversone sesto angolo per il Narcao sta giocando bene con grande capabilità la formazione del Narcao dobbiamo assolutamente dirlo Carbonia che ovviamente nel calcio si sa contano le motivazioni un Carbonia che come ho detto in precedenza è vicinissima la salvezza matematica quando mancano dopo questa partita mancheranno cinque partite al termine del campionato deve conquistare ancora a qualche punto la formazione di Maurizio Largio per l'Atletico Narcao veramente grandissimo impegno grande determinazione finora l'ha dimostrato in questa partita 1-0 il vantaggio dell'Atletico Narcao dalla bandierina parte lo spiovente attenzione la palla si ferma al limite dell'aria ancora l'intervento a parte di massa quindi deve intervenire anche Bibo Carta c'è il fischio arbitrale ha visto probabilmente un fallo il direttore dell'incontro ha segnato questo calcio di punizione in favore del Carbonia deve velocizzare la ripresa del gioco la formazione mineraria bisogna accelerare almeno per quanto riguarda la formazione del Carbonia se vuole se vuole risalire la china adesso un calcio di punizione visto dal direttore dell'incontro con il numero 2 esattamente Garau che posiziona accuratamente il pallone all'interno del cerchio di centrocampo vediamo l'espulsione doppia munizione per Sanna e Carbonia adesso in 10 il Carbonia in 10 c'è stata evidentemente qualche protesta da parte del giocatore del Carbonia che abbandona il rettangolo di gioco Carbonia in 10 da segnalare era stato espulso in precedenza il presidente del Carbonia direttamente negli spogliatoi per qualche parolino di troppo sulla panchina poi a sua volta è stato espulso anche il giocatore con la maglia numero 18 Daniele Carta un altro giocatore che non stava giocando ed era seduto in panchina e l'arbitro adesso allontanato Sanna della Carbonia Carbonia che deve inseguire con 10 uomini in campo si fa difficile più difficile la posizione per il Carbonia in questa partita Carbonia che veniva da 8 risultati utili consecutivi prima della partita di domenica scorsa giocata contro la formazione del Sublanu Carbonia sconfitto per 3 a 2 e quest'oggi sta perdendo in casa contro un atletico Narcao veramente molto molto agguerrito che sta giocando una grande partita il rilancio da parte dei giocatori della formazione di Gia Gio Medda viene raccolto adesso da Bove ancora Bove sul pallone il rilancio del portiere la palla indirizzata verso Momocosa l'intervento da parte di Garao se ne va derrato sui piedi di massa Carbonia nuovamente nella metà campo avversaria il lancio sulla sinistra buono l'intervento difensivo di Pillolla che stava assolutamente rientrando in spaccata è riuscito ad anticipare proprio Momocosa viene alzato questo pallone a campanile il controllo sul destro da parte di massa cerca di servire Angelo May guadagna un calcio di punizione il difensore centrale della formazione mineraria la battuta di Angelo May la palla indirizzata verso il numero 15 Sabio che poi però ha un controllo difettoso la palla si perde direttamente fra le braccia dell'estremo difensore Mennella che con tutta tranquillità ovviamente sta vincendo la sua squadra tra l'altro con un uomo in più in campo per l'espulsione di qualche istante fa di Sanna per cui la formazione del Narcao nuovamente che cerca di guadagnare questo questo pallone esattamente con lo scatto da parte del suo del suo giocatore Garau Andrea Garau capitano vediamo cosa decide l'arbitro assegna probabilmente una rimessa in favore del Narcao con le proteste del pubblico sempre 1-0 il vantaggio per la formazione ospite la rimessa che è venuta in questo istante verso il numero 9 Pinna ancora grandissime proteste vediamo l'arbitro che sta per estrarre un altro cartellino rosso ha perso la testa adesso il Carbonia veramente troppe proteste evidentemente in campo certo ci sono degli errori arbitrali esageratamente però protestano i giocatori del Carbonia per cui lasciano la squadra con in questo momento con nuove unità troppo nervosismo 9 giocatori per il Carbonia 11 per l'atletico Narcao 1-0 il vantaggio per la formazione ospite che chiaramente vuole conservare questo risultato importantissimo nella lotta per la salvezza per la formazione in maglia rossa quest'oggi con i bordi bianchi e Carbonia che si è fatto prendere un po' troppo dal nervosismo nel giro di pochi minuti prima Sanna poi Angelo Me e Carbonia che rimane con nove uomini in campo le proteste del pubblico adesso ancora vediamo cosa accade con l'arbitro si sta perdendo assolutamente tanto tempo calcio di punizione evidentemente assegnato vicino alla panchina di mister Giacio Medda è un calcio di punizione da sinistra a destra in favore della formazione ospite che sta vincendo la sua partita una partita tutto sommato corretta e Carbonia in questi ultimi minuti veramente ha perso un pochino la testa troppe proteste nonostante magari qualche errore di troppo da parte dell'arbitro ma bisogna star calmi certamente facendo così non semplificano la posizione del Carbonia al lancio dalla parte opposta vediamo il numero 7 Pillola che cerca il controllo ancora Pillola tentativo di scatto con Momo Cosa comunque mi pare ben attento e la rimessa laterale anzi la rimessa da Fondocampo e per il Carbonia se ne sono andate al nostro cronometro 28 minuti nel corso di questo secondo tempo sempre 1-0 il vantaggio in favore della formazione dell'Atletico Narcao grazie alla rete realizzata dal numero 5 Porcu direttamente su calcio di punizione al 38esimo minuto nel corso del primo tempo da segnalare che anche nel secondo tempo lo stesso Porcu sempre su calcio piazzato dai 25 metri è impegnato severamente l'estremo difensore Bove che ha salvato letteralmente la propria porta è lo stesso Porcu il migliore in campo in possesso del pallone sul cerchio di centro campo allunga il pallone adesso nella metà campo del Carbonia tentativo di scatto per la formazione di Gia Giomeda che sta giocando bene ancora il controllo di Podda che è scivolato non c'è fallo ovviamente Carbonia da destra a sinistra cerca di ripartire non sarà facile con 9 uomini contro 11 cercare chiaramente di risalire la china in questa partita il controllo adesso è del numero 6 Fabio Poles cerca il suo compagno di squadra ancora Giancarlo Porcu può avanzare chiaramente non viene pressato ancora Porcu in possesso del pallone allarga il gioco a De Montis ancora De Montis buona la sua finta il lancio in verticale De Montis nella zona del campo dove però nessun compagno è appostato quindi a vita facile Massimo Corda cerca di servire Marini ottimo lo scambio ancora Marini tentativo di scatto di Marini tenta il tiro la parata a terra la parata a terra non può impensierire questo tiro da parte di Marini con Roberto Mennella ben appostato sul palo destro già provato buona comunque l'iniziativa da parte del Carbonio in questo frangente dalla lunga distanza da quella posizione non poteva fare altro che tentare il tiro e Mennella si è accartocciato e ha bloccato molto bene subito dalla parte opposta adesso l'Atletico Narcao si affaccia nella metà campo del Carbonio sulla sinistra attenzione ancora formazione di Gia Gio Med da parte il traversore traversa Demontis tiro rete rete c'è il gol dell'Atletico Narcao raddoppio da parte di Demontis esattamente al trentesimo minuto c'era stato un primo tiro la palla si era stampata sulla traversa la palla stessa è rientrata in campo e Demontis da posizione ravvicinata ha fatto secco Bove che nulla ha potuto di testa l'intervento risolutore di Demontis ha spedito la palla alle spalle dell'estremo difessore di Carbonio 2 a 0 al trentunesio minuto nel corso di questo secondo tempo e con questo gol insomma il Narcao mette direi abbastanza al sicuro il risultato ha giocato sicuramente lo avevamo detto anche qua con i colleghi in cabina stampa una buona partita già nel corso del primo tempo e adesso chiaramente con i Carboni in nove ha sfruttato ovviamente la superiorità numerica la formazione di Gia Giomedda ed ha insaccato alle spalle dell'estremo difensore Bove con un'azione sviluppata sulla sinistra un tiro cross la palla si è stampato sulla traversa è rientrato in campo è arrivato Demontis di testa ha spedito alle spalle dell'estremo difensore Bove 2 a 0 ricordiamo nel primo tempo al trentotesio Porcu al trentesio minuto del corso della ripresa è stato Demontis a raddoppiare adesso il cambio nelle file del Carboni vediamo sta per entrare in campo il numero su sedici Cristian Murru sta abbandonando il rettangolo di gioco Bibo Carta esattamente al trentaduesio minuto nel corso di questo secondo tempo e anche il numero quattordici Mattia Giganti sta per fare il suo ingresso in campo chiaramente manda i giovani del settore giovanile in campo fa bene comunque Maurizio Largiu per far fare esperienza ai giovani promettenti giocatori del Carboni nel settore giovanile Momo Cosa fuori lo abbiamo detto già in diverse circostanze insomma le motivazioni fanno assolutamente la differenza nel calcio il Carboni ormai è veramente vicinissimo alla salvezza in questa stagione per l'Atletico Narca ovviamente bisogna cercare di raggranellare punti su punti fino al termine del torneo per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della retrocessione e quest'oggi lo ha fatto vedere la squadra di mister Giagio Medda giocando veramente una partita con grande caparbietà grande determinazione 2 a 0 il vantaggio per la formazione ospite ancora l'intervento del numero 3 Fabio Piras autore veramente di un'ottima prestazione grande esperienza grande mestiere di Piras ancora il tentativo in pressing di Mattia Giganti proprio alle spalle di Piras che è finito a terra il calcio di punizione assegnato proprio alla formazione dell'atletico Narcao calcio di punizione sta per essere eseguito dal numero 5 Giancarlo Porcu ricordiamo le espulsioni di due giocatori del Carboni in questo secondo tempo Nicola Sanna espulso in un primo in uno primo momento e poi anche dopo pochi minuti il difensore centrale numero 5 Angelo May attenzione perché adesso ancora lo scatto da parte di De Montis lascia sfilare il pallone l'estremo difensore del Carboni a Bove per cui ci sarà rimessa dalla piccola area delle portiere sul 2 a 0 ricordiamo le marcature al trentottesimo del primo tempo Giancarlo Porcu direttamente su calcio piazzato la palla sotto la traversa veramente un'esecuzione perfetta da parte del numero 5 della formazione dell'atletico Narcao il raddoppio al trentesimo minuto con un'azione sviluppata sulla sinistra un tiro cross la palla si è stampata sulla traversa è arrivato De Montis e ha depositato la palla in rete per il 2 a 0 ancora il Carboni che ci prova con Simone Marini tentativo da parte dell'attaccante con la maglia numero 10 la palla viene deviata da Poles direttamente in fallo laterale il Carboni ha generoso cerca di buttarsi ovviamente in avanti con il numero 4 Foddi fa partire un traversone la palla murata da parte del numero 14 Karim Meimed ancora ci prova il Carboni ma scarse idee in questo frangente la palla si perde direttamente fra le maglie dei giocatori del Narcao che a loro volta hanno tentato di ripartire in contropiede fermati nuovamente un batti e ribatti e la palla poi viene nuovamente allontanata dai giocatori dell'Atletico Narcao nuovo tentativo della formazione allenata da Gia Gio Medda con questo lancio sulla sinistra si chiama questa azione ancora della formazione ospite con De Montis l'autore del gol del 2 a 0 allarga il gioco dalla parte opposta si alza la bandierina c'è una posizione irregolare da parte del numero 9 Pinna per cui l'arbitro ferma il gioco ed assegna il calcio di punizione in favore del Carbone mancano 10 minuti allo scadere della partita salvo recupero con i minerari che devono inseguire 2 a 0 il vantaggio 2 a 0 il vantaggio per la formazione dell'Atletico Narcao adesso ci sarà un calcio di punizione in favore del Carbonia seguiamo attentamente ancora gli sviluppi di questo finale di partita quando mancano circa 9 minuti al termine con il Carbonia che ci prova ancora con questo lancio in profondità la palla è troppo lunga finita direttamente a bordo campo nulla di fatto il Carbonia che veramente non ha tante idee in questa partita lo ha dimostrato tranne qualche tiro insidioso da parte di Simone Marini poi nient'altro veramente di efficace per la formazione di Maurizio Largio è un Atletico Narcao che è venuto qui veramente con la voglia di fare il risultato lo ha dimostrato sul campo 2-0 direi il risultato meritatissimo per quello che si è visto finora adesso il fallo laterale per la squadra allenata da Maurizio o Largio anzi no c'è il cambio il fallo laterale per la formazione di Atletico Narcao con il numero 5 migliore in campo Giancarlo Porcu l'appoggio sulla sinistra indirizzato a Fabio Piras ancora Piras sulla sinistra cerca di mettere in movimento il suo compagno di squadra nuovo tentativo d'attacco per il Narcao poi l'errore difensivo dei giocatori del Carbonio spediscono la palla stessa in calcio d'angolo ho perso un po' il conto dei corner dovrebbe essere questo il settimo angolo in favore della formazione dell'Atletico Narcao tutto pronto per questo calcio d'angolo da sinistra con la squadra ospite che sta vincendo 2 a 0 attendiamo attendiamo la battuta del calcio d'angolo parte lo spiovente l'intervento difensivo del Carbonio ad allontanare questo pallone ancora verso Simone Marieni c'è un fallo ai suoi danni calcio di punizione in favore del Carbonia sulla trequarti campo della formazione mineraria sta per essere battuto questo calcio di punizione in favore del Carbonia intanto una comunicazione di servizio per quanto riguarda Francesco De Sole dalla radio nel caso in cui dovesse cadere la linea insomma abbiamo il telefono di servizio pronto chiaramente per la radiocronaca in diretta su Radio Star l'altro numero di servizio Francesco eventualmente visto e considerato che abbiamo pochissima batteria sul telefono ancora il tentativo da parte dei giocatori del Carbonia che cercano di venire in avanti in questo finale di partita mancano al mio cronometro 7 minuti 30 secondi sempre 2 a 0 il risultato con il Carbonia che gioca con 9 uomini in campo il gioco è fermo ci sarà la rimessa per la formazione della Narcao partita a questo punto direi quasi chiusa con il Carbonia che certamente non ha più la forza nelle gambe neanche nella testa per poter reagire a questo risultato un 2 a 0 con 9 uomini sul rettangolo di gioco 2 a 0 sotto di due reti la formazione mineraria per cui certamente non è facile per nessuno cercare l'impresa ancora l'arbitro che deve fermare il gioco assegna probabilmente la rimessa alla formazione dell'atletico Narcao stanno scorrendo i minuti in questa partita 6 minuti ormai allo scadere salvo recupero 2 a 0 sempre il vantaggio per la formazione del Basso Sulcis che cerca ancora di attaccare con il numero 4 Meloni ancora Mattiva Meloni si disimpegna molto bene sulla sinistra parte il traversone la palla avvarcato direttamente la linea bianca di fondo campo per cui ci sarà la rimessa dell'estremo difensore del Carbonia Bove pronto al rinvio l'estremo difensore del Carbonio e c'è un cambio però nelle file dell'Atletico Narcao facciamo una breve sosta alla linea che va alla regia Ferramenta Sinzu dal 1958 tintometria per la colorazione di interni ed esterni prodotti e sistemi vernicianti per l'edilizia la decorazione l'industria la carrozzeria e la nautica su un'esposizione di 250 metri quadri macchine e attrezzature per il giardinaggio firmate alpina e bruni Ferramenta Sinzu 50 anni di esperienza benissimo nuovamente in diretta qui dallo Zoboli di Carbonia con il rilancio da parte di Bove la palla che si perde direttamente in auto siamo nel finale di questa partita 5 minuti scarsi vediamo c'è un cambio nelle file della formazione di Gia Giomedda sta per entrare in campo il numero 13 Stefano Pirodi vediamo chi abbandona il rettangolo di gioco si tratta di Stefano De Montis sta per uscire proprio l'autore del raddoppio della formazione dell'Atletico Narcao ricordiamo al trentesimo minuto è stato è stato proprio De Montis a realizzare il gol del 2 a 0 e chiaramente l'applauso anche del pubblico con De Montis che ha messo al sicuro il risultato ormai va manca veramente pochissimo al termine della partita con il Carbonia che sta inseguendo 2 a 0 gioca con 9 uomini in campo la partita direi a questo punto è chiusa per il Narcao il lancio in piena area attenzione perché ancora il numero 5 Porcu che ha cercato chiaramente di destreggiarsi ancora Porcu in possesso del pallone sempre lui parte il traversone guadagna il calcio d'angolo grande partita del numero 5 Porcu credo siano d'accordo anche i colleghi qui dell'Unione Sarda Nuova Sardegna certamente il migliore in campo ha sbloccato lui il risultato del corso del primo tempo battendo veramente una punizione esemplare e poi è stato il padrone di centro campo della formazione di Gia Gio Medda ha fatto un pochino quello che ha voluto insomma ancora lui in possesso della sfera vediamo si alza la bandierina della collaboratrice qui del signor Marco Medda della sezione Cagliaritana vediamo cosa decidono calcio d'angolo per la formazione dell'Atletico Narcao in questo finale partita ormai tutti attendono il triplice fischio finale ma mancano ancora due minuti e mezzo alla fine della partita salvo recupero con il rilancio ancora in avanti Atletico Narcao in possesso della sfera con Podda buono il controllo l'appoggio verso lo stesso Porcu avanza Porcu serve il numero 15 Angelo Pau buona la triangolazione sempre sul versante destro dell'attacco del Narcao parte il traversone ancora insidiosissima la formazione di Gia Gio Medda con il numero 13 Pirodi ha staccato molto bene di testa la palla è alta sulla traversa la porta difesa da Daniele Bove un Carvoria che è ormai chiaramente spento in questo finale di partita con nove uomini in campo certo non era facile per nessuno poi riuscire a rimontare questo svantaggio di 2 a 0 quando ormai manca veramente pochissimo al termine della partita per il Carvoria ci sono altre 5 gare da disputare salutiamo anche i colleghi dell'Unione della Nuova che abbandonano la cabina stampa 5 partite ancora da disputare per la formazione mineraria qualche punto lo può guadagnare insomma ancora qui allo Zoboli mentre per l'Atletico Narcao veramente 3 punti preziosissimi quest'oggi in questo finale di campionato per l'Atletico Narcao 26 punti attuali prima di questa partita con questa vittoria sale a quota 29 la formazione di Gia Giomedda se non vado errato sarebbe questa la terza vittoria consecutiva per la squadra del Basso Sulcis avanza ancora il Narcao parte lo spiovente l'uscita l'uscita di Bove anticipato il numero 13 Pirodi e rimette il pallone lungo nella zona del campo dove c'è Marini ottimo lo stop da parte Simone Marini grandissima classe del giocatore del Carbonia adesso ancora Murru cerca di servire lo stesso Marini che però viene anticipato per cui si perde questa azione offensiva della formazione mineraria con i giovani del Carbonia che chiaramente cercano di andare in pressione ma l'intervento dell'Atletico Narcao quest'oggi veramente molto molto attento da sinistra a destra cercano ancora di ripartire con Podda l'appoggio a Porcu ancora Piras i giocatori esperti del Narcao controllano il pallone adesso è Poles il rilancio di 40 metri si perde direttamente fra le braccia di Bove ormai tutti attendono il triplice fischio finale siamo a un minuto dal termine della partita con questo rilancio da parte dei giocatori del Carbonia Massimo Corda serve ancora Sabio ma ovviamente ormai non c'è più assolutamente partita dobbiamo assolutamente commentarla fino al termine con questo rilancio in avanti ancora Davide Massa anticipa il suo diretto avversario serve lo stesso Corda con questo lancio di 40 metri ha cercato di mettere in movimento Marini anticipato però dai giocatori del Narcao che spazzano la propria metà campo con questo rilancio in contropiede attenzione ha tentato ancora l'incursione Pirodi ma è ancora Bove attento sempre Massimo Corda in questo finale di partita dobbiamo commentare certamente quello che vediamo ancora il numero 14 del Carbonia ha subentrato in questo secondo tempo Mattia Giganti ha appoggiato il pallone all'indietro ma sbagliano ancora i giocatori del Carbonia avanza l'Atletico Narcao con il grandissimo Giancarlo Porcu che è onnipresente su tutto il rettangolo di gioco ha giocato una partita veramente eccezionale ancora Piras ha anticipato il suo avversario serve lo stesso Porcu adesso un giocatore minerale a terra ma si prosegue con questo lancio sulla corsia di destra attenzione allo scatto di Pirodi cerca di controllare questo pallone è arrivato sulla sfera è scivolato e ha facilitato così l'intervento di massa forse questa è l'ultima incursione da parte dei giocatori minerali verso la metà campo del Narcao il lancio verso Simone Marini il controllo da parte del numero 10 del Carbonia ottimo il suo dribbling viene pressato da Garau ancora Marini cerca chiaramente di fare un po' tutto a solo finisce a terra guadagna un calcio di punizione grandissimo giocatore Simone Marini ovviamente lo ha dimostrato anche in questo frangente è finito a terra ha guadagnato un calcio di punizione siamo veramente agli sgoccioli di questa partita 2 a 0 il vantaggio della formazione ospite con il Carbonia che ci sta provando comunque con coraggio in questo finale di partita con Simone Marini che non vuole che vuole assolutamente tentare magari il gol della bandiera da quella posizione su calcio piazzato barriera predisposta a 4 per quanto riguarda la formazione dell'Atletico Narcao tutto pronto per questo calcio piazzato e Simone Marini che cerca di prendere la rincorsa naturalmente da quella posizione non sarà facile inquadrare la porta ci prova con lo specialista del Carbonia autore in questa stagione di 12 reti pronto alla battuta nel finale della partita siamo ormai a tempo scaduto oltre 2 minuti dal 45esimo parte Simone Marini la palla che si perde a fondo campo ci ha provato con il tiro a girare col sinistro la palla un metro al lato della porta difesa da Mennella è l'arbitro che lascia proseguire quando ormai credo veramente questa partita sia archiviata in favore dell'Atletico Narcao che sta vincendo per 2 reti a 0 l'estremo difensore Roberto Mennella va al rinvio la palla intercettata ancora Mattia Giganti c'è forse ancora il tempo per un'altra azione ci prova il Carbonia con Sabio allarga il gioco dalla parte opposta verso Foddy che però viene anticipato splendidamente da Piras che con grande astuzia e mestiere riesce a rubare il tempo al suo diretto avversario e guadagnare anche un calcio di punizione siamo veramente oltre i 2 minuti e 30 secondi oltre il 45esimo nel corso di questo secondo tempo con l'Atletico Narcao che deve battere questo calcio piazzato l'arbitro molto fiscale sta facendo recuperare tutto il tempo perso durante la partita il rilancio ancora per gli uomini di Giagio Medda che scattano molto bene sulla sinistra il numero 8 Podda insegue questo pallone lo appoggia all'indietro verso Giancarlo Porco ancora lui in possesso della sfera chiaramente Carbonia che ha un po' di difficoltà nel controllare i giocatori del Narcao giocano con due uomini in più attenzione il tiro e c'è il gol c'è il terzo gol da parte della formazione ospite con il numero 15 se non vado errato esattamente proprio lui è stato Pau Angelo Pau a realizzare il terzo gol per la formazione del Narcao per cui 3 a 0 dobbiamo appuntare naturalmente questo risultato 3 a 0 per la formazione ospite siamo a tempo ormai scaduto esattamente al 49esio minuto 49esio minuto vediamo adesso l'arbitro cosa decide con Bove che stava addirittura abbandonando la porta ma l'arbitro non è dello stesso avviso veramente una scena curiosa quella di Bove che addirittura voleva andare direttamente agli spogliatoi ma l'arbitro non ha ancora fischiato la fine della partita 3 a 0 il parziale chiaramente risultato pesante qui allo Zubuli per la formazione mineraria ma come ho detto prima veramente il Narcao ha messo tutte le energie in campo per vincere questa partita e devo dire la ha meritata ampiamente gli applausi del pubblico 3 a 0 finale con il Carbonia che chiaramente esce sconfitto dal suo stadio ma onore al merito ovviamente alla formazione ospite che assolutamente non ha rubato nulla ha giocato una grande partita e Carbonia forse è sceso in campo un po' troppo molle mentre il Narcao deciso a fare il risultato lo ha dimostrato insomma ha sbloccato il risultato al trentottesimo minuto del corso di questo primo tempo con Giancarlo Porcu direttamente su calcio piazzato la palla calciata verso la porta difesa da Daniele Bove si è insaccata alle spalle del portiere ecco gli applausi ecco gli applausi del pubblico verso i giocatori con la maglia rossa che abbandonano il rettangolo di gioco con la grande festa la grande gioia per questa vittoria veramente una vittoria importante diceva appunto il 3 a 0 con il gol di Giancarlo Porcu al trentottesimo minuto su calcio piazzato il raddoppio poi al trentesimo minuto con Stefano De Montis pronto a ribatteri in rete un tiro cross terminato sulla traversa rientrato in campo e De Montis di testa ha realizzato il gol del 2 a 0 e poi dopo le espulsioni di due giocatori del Carbonia prima è stato espulso Sanna poi Angelo May Carbonia che è rimasto con nove uomini in campo è stato traffitto proprio al quarantanovesimo quasi allo scadere della partita con il gol realizzato da Angelo Pao servito in piena area a botta sicura ha calciato raso terra ed ha battuto per la terza volta all'estremo difensore Bove ci sentiremo sicuramente più tardi dagli spogliatoi con le interviste di rito per il momento direi di lasciare qui appunto il rettangolo di gioco dello stadio Zoboli di Carbonia ribadendo il Narcao ha battuto il Carbonia per 3 a 0 linea alla regia fratelli Carboni SNC officina meccanica e gommista lungomare Amerigo Vespucci 21 Sant'Antioco specializzati per tutte le marche di autovetture nella meccanica e nel controllo pneumatici riconosciuta officina certificata con qualità Mastro Michelin massima qualità e professionalità con apparecchiature e strumenti elettronici all'avanguardia per convergenze ed equilibrature che garantiscano la massima sicurezza su strada Alla Fratelli Carboni il servizio tagliandi multimarking garanzia certificati officini a posto con materiali di qualità ISO 9001 proverete inoltre massima gentilezza e cortesia con le migliori offerte promozionali per l'acquisto di 4 pneumatici Michelin a partire da 15 pollici a salire fate una sosta alla Fratelli Carboni SNC sul lungomare Amerigo Vespucci 21 a Sant'Antioco qualità cortesia e professionalità al vostro servizio telefono 0781 83 605 e-mail fratelli Carboni chiocciolattiscali punto it Benissimo in diretta qui su Radio Star su telesardegianetwork.com in compagnia del mister Maurizio Largio al termine di questo derby sul citano in salsa sul citano insomma la spuntata dell'Atletico Narcao probabilmente la formazione che aveva più voglia di vincere quest'oggi Sì probabilmente erano più carichi di noi hanno dimostrato appunto di voler vincere la partita e ci sono riusciti noi effettivamente eravamo un po' scarichi e poi siamo rimasti nove per l'ennesima partita purtroppo commettiamo ancora questi errori di di scannarci contro gli arbitri con tutto ecco forse scusa se ti derò forse reazioni anche un po' eccessive pare no? no vabbè non non più di tanto siamo cascati nel tranello secondo me perché poi non è che erano reazioni eccessive sì effettivamente non avevamo motivo di nervosirci così perché la nostra classifica ci faceva sicuramente essere più sereni e tranquilli rispetto rispetto a loro quindi non avevamo sicuramente necessità di nervosirci così però purtroppo quando stai giocando e degli errori arbitrali ti portano a ciò purtroppo che capita di perdere la testa non l'avremmo dovuto fare sicuramente ripeto perché noi eravamo più sereni e tranquilli per una classifica abbastanza più tranquilla rispetto alla squadra avversaria però purtroppo abbiamo commesso anche questa partita due errori gravissimi prima da parte di Sanna e poi da parte di Meighe che hanno lasciato la squadra in nove e poi è inammissibile recuperare il risultato i nove uomini contro l'undici perché fino a quel punto la partita è stata comunque correttissima non ci sono stati veramente incidenti in campo l'Atletico Anarcao ha fatto la sua partita e il Carbone come abbiamo detto forse è sceso in campo un po' troppo scarico comunque al Carbone gli manca ancora qualche punto per guadagnare la matematica a certezza insomma mancano ancora cinque giornate al termine del campionato bisogna concludere la meglio no? sì il problema è quello effettivamente con dei punti oggi avremmo potuto chiudere quelli che erano il discorso dei nostri obiettivi che era quella appunto di salvarci con qualche giornata d'anticipo oggi forse anche con un solo punto ci siamo potuti riuscire non ci siamo riusciti per cui dobbiamo rimandare alla prossima gara sperando di chiudere i giochi nella prossima gara ecco perché i nostri obiettivi erano quelli di doverci salvare con qualche giornata in anticipo effettivamente mancano ancora quattro per cui sperando che appunto domenica riusciamo nell'intento sull'atletico Narcao un giudizio arrivavano da un paio di vittorie consecutive effettivamente hanno dimostrato di avere più vogliani noi nel vincere la partita e ci sono riusciti benissimo in diretta su Radio Star un attento osservatore del campionato di promozione mister Grudina quest'oggi qui allo Zoboli per seguire questo derby in salsa sul città insomma come ha visto la partita una vittoria meritata per il Narcao sicuramente c'è un discorso di classifica dove trovavi comunque un Carbonia che praticamente secondo me è anche quasi appagato perché manca poco o niente per quello che è un discorso salvezza mentre invece per il Narcao i punti erano importantissimi quindi ho visto comunque un Narcao forse leggermente un po' più determinato soprattutto per quello che riguarda nel primo tempo dove c'è stata una gara a corte dove tutti comunque sia poi rentavano sotto la linea della palla cercavano poi con Giancarlo Porco di verticalizzare il gioco e a dire la verità a parte un liscio che c'è stato da parte dei centrali del Narcao dove il Carbonia sicuramente avrebbe potuto sfruttare meglio questa occasione da rete e poi sicuramente il Narcao stesso ha avuto due o tre palle che avrebbe potuto comunque capitalizzare c'è stata la punizione di Giancarlo Porco che è quella che ha determinato poi un governo importante secondo me per loro dal limite dell'aria Giancarlo Porco è uno specialista in questo a dire la verità quindi questo non sorprende secondo tempo mi è sembrato che il Carbonia fosse entrato in campo un po' più determinato a dire la verità giocando con una maggiore compatenza anche di squadra e tutto poi c'è stata una serie di situazioni arbitrali non so cosa sia successo perché dalla tribuna sicuramente non si riesce a sentire quello che succede in campo però che ha penalizzato enormemente il Carbonia con l'espulsione di Nicola Sanna prima e poi di Mei e via dicendo è chiaro che a quel punto non è esistita più partita con una sua priorità numerica così in campo il Narcao ha gestito il gioco ha gestito gli spazi addirittura è andato in colo altre due volte e quindi il secondo tempo secondo me è stato relativo un pochettino a queste espulsioni e conta relativamente peccato perché si prospettava un bel derby si prospettava lo era anche a dire la verità nel primo tempo però poi si è concluso in una maniera che molto probabilmente penalizzerà il Carbonia anche magari nella prossima partita viste delle espulsioni importanti e la mancanza anche di qualche giocatore come Chico Trugo e qualche altro importante in questa squadra ecco Ecomisa e lei ha veramente dall'alto della sua esperienza no? Le motivazioni del calcio sono tutto però Guardi le motivazioni sono tutto chiaramente perché l'aspetto psicologico forse è la componente più importante ripeto non che il Carbonia fosse appagato però sicuramente c'era una maggiore cattiveria sotto questo aspetto da parte del NARCAO perché trovandosi in una situazione comunque pericolosa dove urgono punti per salvarsi probabilmente questa ha fatto sì che questa squadra desse quel qualcosino in più ripeto soprattutto nel primo tempo perché nel secondo tempo poi con queste due espulsioni storia non ce n'è stata però quel qualcosino in più per portare a casa un risultato che comunque alla fine l'ho anche premiato perché a dir la verità è stata una squadra che ha giocato in maniera molto accorta ecco ecco due parole anche su questa sfida al vertice tra Lanusei e Tortoli lei chi vede meglio? guarda quello che so in questo momento so che addirittura il Tortoli ha perso quindi vincendo Lanusei ha vinto contro il quarto Sant'Elena mi pare essere riportato in una posizione probabilmente un po' più tranquilla rispetto a quello che era oggi prima delle 15 io pensavo che dopo la sconfitta della Lanusei il Tortoli potesse veramente ambire ad arrivare il primo è chiaro che sono stati probabilmente loro penalizzati da questa sconfitta questo fa sì che Lanusei probabilmente anche sotto l'aspetto psicologico abbia guadagnato un qualcosa in più rispetto alla sua diretta concorrente io sono andato via da Orroli quindi ho dato le dimissioni da Orroli ecco questa è una novità già da un mese a dir la verità io ho lasciato la squadra a nove partite alla fine a 33 punti è una squadra praticamente salva so che oggi hanno vinto anche 4 a 0 quindi si sono portati a 40 punti in una posizione comunque anche abbastanza tranquilla e niente la mia avventura dopo tre anni si è conclusa lì io penso di aver dato tanto a questa squadra e a questa società nella costruzione della squadra stessa anche quest'anno nella valorizzazione dei giovani nella vittoria del campionato dalla prima categoria alla promozione il quarto posto l'anno scorso e via dicendo quindi sono andato via soddisfatto non ci sono stati particolari problemi però chiaramente io sono fatto in una certa maniera e voglio che le cose vengano sempre eseguite in quella maniera lì quando vedo che qualcosa magari non va per il verso giusto è chiaro che a quel punto io prendo le mie decisioni queste sono state le decisioni che hanno fatto sì che io le dimissioni da Orroli ecco sicuramente noi facciamo tanti auguri allora per il proseguo della sua carriera nei prossimi anni chissà magari punto interrogativo non venga magari a allenare un domani anche qui a Carboni ma nel calcio non si sa mai quello che può succedere chiaramente Carboni è sempre stata una società molto ambita ripeto poi io per tanti anni sono stato cominciato qua nel Sulcis a Iglesias e via dicendo per me sarebbe anche a dire la verità una grande soddisfazione però chiaro che questo non dipende solo sicuramente da me ma dipende soprattutto dalla società ecco quindi però se dovessi essere chiamato sicuramente a Carboni io vorrei molto 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 volentieri ringrazio Mr. Grudina grazie ancora in diretta qui dallo Zoboli sala stampa con il mister dell'Atletico Narcao Gia Giomedda complimenti veramente per una vittoria meritatissima grazie che dire sono felice insomma intanto dei complimenti ma soprattutto della vittoria che per noi era importantissima considerata la posizione di classifica che occupiamo era una partita difficile perché contro un'ottima squadra contro il Carbonia perché in casa loro perché un derby e quindi sapevamo insomma che non sarebbe stato facile e quindi è arrivata e non possiamo che essere felici insomma erano tre punti che andavate ricercando proprio perché venivate tra l'altro a due vittorie consecutive no? sì sì beh speravamo appunto di dare continuità ai risultati questo è avvenuto e siamo soddisfatti speriamo insomma di continuare la strada mi sembra sia quella giusta però il cammino è ancora molto lungo e tortuoso per cui ci prepareremo al meglio insomma per cercare di arrivare fino alla fine nelle migliori condizioni ecco l'abbiamo detto anche con altri tuoi colleghi abbiamo intervistato qui su telesardegnanetor.com e su Radio Starra sia con il mister del Carbonio Largio sia con un ottento osservatore come Grudina insomma nel calcio le motivazioni contano? ebbè sono essenziali a volte la motivazione superisce a quello che è il livello tecnico delle due squadre noi avevamo sicuramente molte più motivazioni perché per noi era indispensabile poter cioè dover fare il risultato anche se poi in alcuni casi c'è la pressione dove farlo e spesso sbagli noi l'abbiamo anche fatto è avvenuto anche oggi perché nei primi cinque minuti siamo entrati un po' troppo contratti abbiamo anche concesso l'occasione al Carbonia che potevano insomma farci farci i golli e lì sarebbe stato sicuramente più più difficile invece ci è andata bene siamo riusciti a non prendere i golli e poi dopodiché credo che la vittoria sia stata meritata a prescindere dal fatto che loro siano rimasti in nove ma credo che la partita sia stata ormai il risultato era determinato già da prima 29 punti in graduatori a 5 giornate dal termine quanti punti ancora occorrono all'Arcao per raggiungere la matematica certezza e la salvezza ma io credo che sia necessario fare ancora almeno 8 punti ecco insomma mi sembra che con 8 punti si possa già pensare di uscirne fuori un giudizio sul Carbonia il Carbonia è un'ottima squadra l'ho sempre sostenuto c'ha giocatori esperti molto bravi e c'ha giovani molto bravi per cui una bellissima squadra bisogna ammettere che non è facile giocare in questo campo tra vento e terreno di gioco insomma aspettarsi grandi partite anche non è semplice non favorisce lo spettacolo non favorisce lo spettacolo assolutamente grazie Giacio Mè naturalmente gli auguriamo un grande in bocca al lupo per il finale di campionato siamo veramente in chiusura insieme qui a Luca Leinardi il nostro cameraman chiaramente in regia Carmine Basciu nello studio di Radio Star ringrazio ovviamente Francesco De Sole un ringraziamento a tutti voi ci ascoltate sempre con grande attenzione e ci guardate naturalmente con grande generosità qui sulla nostra emittente telesardegnanetwork.com da Renato Scano è veramente tutto dallo stadio Zoboli ribadendo che l'Atletico Narcao ha battuto per 3 a 0 il Carbonia domenica sarà altra storia linea alla regia che la sua e la mia un'espressiva che la sua è la mia un'espressiva